Allora, buonasera a tutti quanti, siamo perfettamente in orario, con noi un buon ritorno, il generale Paolo Capitini, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Allora, ci sono un po' di cose da analizzare, cominciamo subito, immagino, da quello che interessa subito a tutti quanti, cioè l'attacco ucraino alla base di Sevastopoli, che è che ancora non si sanno esattamente tutti i danni, anche perché i russi, come al solito, dicono e non dicono la verità. Da quello che sappiamo è stato condotto da nove droni, sono tutti droni in realtà, sia le barche sia i droni, diciamo, aerei, in realtà ci sono anche degli attacchi secondari che a molti ho visto è sfuggito, non ci sono notizie a riguardo. Io ho scovato anche delle cose abbastanza interessanti, poi le vedremo. C'è anche qualcosa di Poroshenko, perché pare che alcuni degli attacchi secondari sono stati condotti sulle ditte che Poroshenko possiede in quel porto per la riparazione di navi russe. Questa è una notizia che mi hanno passato ora i miei contatti una mezz'oretta fa, che potrebbe essere un altro elemento interessante, e l'altro invece è l'attacco alla centrale energetica, fratto di recente costruzione da parte dei russi, che si trova un pochino dietro Sevastopol, che è passato molto inosservato come attacco, è stato dato solo come notizia da alcune fonti russi, ma ci sono anche dei video geolocalizzati dove si vede insomma del fumo, pare che sia stato distrutto solo un generatore, potrebbe essere una rappresaglia ucraina rispetto alla strategia russa del colpire la rete energetica ucraina. Quindi vorrei cominciare proprio da questo e metto i filmati che immagino molti avranno già visto, ma quelli sono e quelli ci sorbiamo. Allora, uno è questo che è una visuale proprio dal porto, dove si vede palesemente delle esplosioni e da quello che sappiamo Admiral Makarov è stata colpita, pare danni lievi, nulla di grosso. Per essere stato colpito un dragamine, una piccola nave da trasporto che è affondata e una nave ausiliare da sbarco, quindi i danni sono abbastanza limitati. In realtà quello che ci interessa di più non è tanto l'attacco in sé, perché dal punto di vista militare non hanno ottenuto molto, il contraccolpo invece che secondo me è più importante, cioè il fatto che i russi sono voluti uscire subito dal trattato sul grano, che credo che sia il contraccolpo più importante di questa storia. Io fossi stato gli ucraini, quantomeno sapendo che i russi probabilmente sarebbero usciti da quel trattato, mi sarei assicurato di distruggerle quelle navi, perché sennò il gioco non vale la candela, non so se tu sei d'accordo. No no, sicuramente è così, poi bisogna vedere anche se se ne avevano le capacità e la possibilità in quel momento, perché sulle condizioni del momento bisogna essere lì per poterlo valutare. Però il danno veramente grande è il senso di insicurezza che hanno trasferito a tutta un'intera flotta a casa sua. Adesso senza voler evocare i fantasmi della notte di Taranto a queste cose qui, perché per danni non ci siamo, non sono paragonabili, però il luogo dove una flotta si sente tranquilla è nel proprio porto. Adesso vorrei vedere stasera gli equipaggi a bordo di tutte le rimanenti navi, come si possono sentire. Sì, anche perché è un porto abbastanza particolare, come abbiamo visto, tu l'hai subito criticato appena ti ho mostrato le foto satellitari, è un porto veramente riempito di navi con difficile navigazione e facili bersagli, visto che sono un po' tutte appaiate, un pochino come poteva essere per l'arburo o Taranto, in questo senso. Non è un vero porto con una diga che dà protezione, sono tanti piccoli fiordi che creano problemi di navigazione. Per l'altro bisogna anche ragionare se quelli erano i bersagli di opportunità o se erano primari, diciamo. È distrutto qualcosa? No, ho ridarguido il gatto dal fare quello che voleva fare. Un uso limitato della forza. Non sappiamo se, perché gli obiettivi che probabilmente erano primari erano i due sottomarini classe Kilo, che erano in fase di rifornimento, che probabilmente erano degli obiettivi molto più importanti di navi di supporto logistico o da sbarco, che sono veramente obiettivi minori, anche perché mi sembra che la disponibilità russa di fare sbarchi, specie a Odessa, cosa del genere, sia venuta completamente meno. È interessante vedere che con queste tecniche, con questi barchini, che sono molto difficili da colpire perché sono bassissimi, sbucano fuori dall'acqua per meno di mezzo metro. Lo si vede anche nei filmati. I rossi stessi notavi che hanno degli ottimi artiglieri, perché comunque colpire un bersaglio di quella grandezza in movimento e di questa stazza, come si può vedere, è molto difficile. Nonostante questo, l'operatore evidentemente lo utilizza in remoto e quindi si vede che prende le azioni proprio rispondendo a quello che avviene dall'altra parte. Come vede che viene sparato, praticamente si tenta di fare manovre di diversione. Ecco, secondo te è un nuovo rischio per tutte le flotte del mondo, perché noi se ne parlava anche per quanto riguarda narcotrafficanti e cose del genere, perché il prossimo passo sono praticamente i droni sottomarini. No, no, è la comparsa sul campo di battaglia di un elemento semplice e proprio la sua semplicità e la sua banalità lo rende estremamente pericoloso. Dipende sempre in mano a chi arriva. Tu hai citato adesso per esempio le reti di criminalità organizzata di grande livello, che investono un sacco di soldi nel trasporto della droga con aeroplani, con altri sistemi. Ora adesso questo sistema qua permette di caricare qualche quintale di quello che vogliono loro e farlo partire senza rischio di arresto, senza essere intercettato, senza avere niente e praticamente con un flusso quasi continuo. Che cosa possa avere per esempio sulla guardia costiera americana un effetto di questo tipo? Uno se lo potrebbe immaginare, ma anche qua da noi, su bracci, su tratti di mare estremamente brevi, immaginatevi quello che può essere tra il Montenegro, l'Albania, le coste pugliesi per esempio, o lo sgancio di un affare del genere da una nave madre in mezzo al Mediterraneo va dove vuole e va dove vuole trasportando quello che vuole o anche minacciando di trasportare quello che vuole. C'è una cosa per esempio che magari è una nota a margine, ma oggi in Porta Odessa saranno per forza raddoppiati i turni di guardia a bordo e quindi ci sarà gente che passa la notte a scrutare il mare col vecchio sistema delle foto elettriche, delle luci, perché devi vedere quando arrivano, perché finché non c'è l'avvistamento ottico è come se non esistesse. Dovranno avere elicotteri che fanno il pattugliamento sopra la base dalla mattina alla sera. Tutto questo non sono provvedimenti a costo zero e poi oltretutto il grande senso di insicurezza e di impotenza che si ha a bordo delle navi. E questo è un discorso che tutte quante le marine del mondo si fanno. Era dal tempo di scapa-flo che qualcuno non entrava con qualcosa di piccolo dentro o della baia di Suda o parliamo della seconda era mondiale di azioni che ancora ricordiamo come eroiche, come estremamente ardimentose, ma perché erano condotte da persone in carne e ossa. Ora l'elemento eroico non c'è più, c'è l'elemento tecnologico, c'è la capacità di avere qualcuno in grado di guidare questo come si guida un aeromodello e quindi abbiamo una piattaforma di possibili utenti molto più vasta, molto più grande. Non dobbiamo più cercare l'eroe, dobbiamo cercare una persona brava con un joystick. È abbastanza interessante soprattutto per il fatto perché questo potrebbe dare a certe diciamo marine che in realtà non hanno grandi capacità, tipo quella iraniana, una capacità di colpire che prima era impensabile, lo stretto di Ormuzio che è estremamente stretto, viene controllato gli americani e spesso ci sono molti battibecchi con i battugliamenti iraniani, beh con questo sistema qui, i battugli iraniani già erano diventati abbastanza noti per i loro attacchi proprio con moto siluranti, cose abbastanza leggere, visto che si sono dati tanto da fare con i droni, ora potrebbero fare lo stesso con questo genere. È di difficile attribuire, è di difficile attribuzione, cioè mentre una nave è difficile dire non sei stato tu, o una traccia missile, lo vedi, viene ricondotta alla sua sorgente origine, ma questo è un barchino che si autodistrugge, non si ha la prova certa che sia stata la potenza A anziché la potenza B a lanciarla, o la potenza B per far cadere la colpa sulla potenza A, cioè è un'attribuzione sempre abbastanza incerta e anche questo rientra in quella specie di fumo e di confusione che sembra essere l'elemento ricercato e di novità in tutta questa guerra. Anziché di far chiarezza si cerca di aumentare la confusione, un po' con gli annunci, un po' con i droni, un po' sono io, un po'… è un mondo in cui sembra che ci si sguazzi favorevolmente nell'incertezza, sta diventando un'arma l'incertezza. Beh, fa soprattutto comodo a chi fa un genere di guerra ibrida, diciamo, un genere di attacco di questo tipo. Altra cosa che volevo far vedere sono assolutamente le situazioni di Sebastopoli, fra l'altro questi droni, come abbiamo visto, hanno anche visione termica, notturna, quindi possono tranquillamente fare attacchi di notte e già sono piccoli, sono un paio di metri di barchino, poi li vedremo. Poi se lo conduci anche di notte diventa sempre più complicato individuarli, tanto che abbiamo visto quando si avvicinano troppo alle barche, le barche non hanno neanche la depressione per riuscire a colpirli, quindi letteralmente tu devi avere i fanti di marina che sparano addosso a questi mezzi qui e non è detto che con delle armi leggere riesci a fermarli. Un RPG, li tiri giù con un RPG, li tiri giù con un Panzer, li devi dotare di armi contro carro, è una cosa abbastanza buffa, per tirarli a, per beccare almeno a 5, 6, 700 metri con una buona carica esplosiva devi avere un'arma contro carro spalleggiabile, l'unica cosa che c'è adesso sul mercato, che copre quella distanza. Solo che la marina non penso che abbia pensato di comprarseli. Sì, non penso che sia un obiettivo che era stato calcolato a inizio guerra, di doversi occupare di droni e barchini veloci. Queste sono alcune delle baglie di Sevastopoli, perché Sevastopoli ne ha varie e sono tutte estremamente strette, come si può vedere le navi, per esempio qui ci sono della classe Ropuccia, che sono 6 tutte insieme, se un paio di barchini riescono a infilarsi qui dentro fanno veramente grandi danni. Non hai neanche capacità di manovra, è vero che ci sono delle reti, si vede, ci sono delle reti difensive, però è un porto estremamente riempito di navi, di difficile navigazione, come si può vedere, sono tutte appaiate l'una accanto all'altra, quindi è un grosso problema per russi, secondo me, dal punto di vista logistico, quindi hanno veramente troppe rispetto alla capacità del porto stesso e quindi diventa estremamente vulnerabile. Ecco, questo ti volevo far vedere, perché un'esplosione è stata registrata in questa zona e in verità qui, qui si vede poco, poi magari si vedrà meglio con Google Map, qui ora uno non c'è più, ma fino al giorno dell'attacco qui c'erano due sottomarini classe Kilo, che sono sottomarini diesel, che probabilmente erano i bersagli veri e propri, perché insomma le navi secondarie da sbarco, questo non è che fossero un obiettivo così importante. Ecco, se l'obiettivo per gli ucraini era quello di buttare giù, diciamo, quello che rimaneva della flotta russa, in contraposizione al discorso del grano, beh, secondo me qui ha fatto un po' backfire queste operazioni. In frattato i russi dicono che sono stati gli inglesi ad aiutare gli ucraini a fare questo genere di operazioni, non so su che basi, l'hanno detto e basta. Questo è un articolo, frattato io vi consiglio di andare su Cover Shores, perché è un sito che si occupa proprio di analisi navali e satellitari, delle situazioni insomma un po' in tutto il mondo, questo barchino se vi ricordate l'avevamo già fatto vedere mesi fa, perché uno di questi barchini era finito sulle coste tour, che evidentemente si era perso, è interessante anche notare che vanno a colpire oltre 250 km da adesso e in alcuni casi anche 300 km, perché la parte secondaria che è stata colpita di Sebastopol, che è una grande base che ha varie anse, diciamo, ce n'è anche una a sud, dove c'è fra l'altro la centrale, quella è oltre 300 km, quindi o hai un'unità di appoggio in mezzo al mare da cui le piloti o letteralmente riesci a pilotarle da terra, quindi è abbastanza interessante vedere le capacità. Notare che sulla punta ha due sensori, evidentemente quando sbatte, innesca praticamente la carica, questa è praticamente una bomba col motore, né più né meno, è guidata con una camera, quindi è interessante vedere. L'idea non è proprio, diciamo, non è un di quelle nuove, l'idea è, c'è almeno un'ottantina d'anni, però una settantina d'anni tutta, solo che adesso c'è l'elettronica. Per divertimento ho fatto dei parallelismi storici, diciamo, che potrebbero calzare, non solo la tipologia, uno è questo, è lo scigno, il sea quake, terremoto di mare, che era praticamente un barchino esplosivo giapponese, soltanto che lì c'era l'uomo, ecco, c'era l'uomo che evidentemente o si suicidava o si lanciava all'ultimo secondo e poi per parlare di qualcosa di nostro ho preso il sistema Semovente-Rossetti, che è meglio conosciuto come la Mignatta, no? La torpedine, diciamo, Semovente, che venne utilizzata per esempio per attaccare la Viribus Unitis, nel periodo in cui praticamente si formava la Jugoslavia e la marina austro-ungarica passava le sue navi, noi andammo ad affondare la Viribus che era da qualche giorno una nave Jugoslava, non era più una nave austriaca, nel momento che l'abbiamo tirata sotto. Sì, non era più austriaca, secondo le carte, non era più austriaca, poi che non lo sapessero. E questa cosa si sapeva, questa cosa si sapeva, cioè era un biglietto da visita, sì, sì, era un biglietto da visita per il nascente, la nascente nazione Jugoslava. Poi questi rapporti si sarebbero chiariti nel momento deteriore, qualche anno dopo con l'invasione, ma era per stabilire chi avrebbe mai comandato, qual era l'area che tirava nell'Adriatico, ecco, per farlo capire da subito. Sì, a noi non piaceva la Jugoslavia perché andava ovviamente a minare, diciamo, cioè per noi era più comodo tante piccole nazioni che non una Jugoslavia grossa, invece i francesi, gli inglesi lo volero per fare da contraltare agli italiani e quindi noi andammo subito insomma ad affondare la Viribus Unitis che è abbastanza… Lo so che è quasi bizzarro parlare in questi giorni di interessi nazionali fuori dai confini nazionali, ma c'è stato un periodo in cui l'Italia riusciva nel suo ambito, l'isola del Dodecaneso, questo bombardamento, l'occupazione della Libia, cioè c'aveva una visione mediterranea, c'aveva una coscienza di esistere nel Mediterraneo e su questo sarebbe anche da vedere quanto ancora rimane di quella coscienza, di quanto poi rimane dalla volontà di rimanerci così come vogliamo rimanerci, questo è un altro ambito. Però come si vede, e ritornando al discorso dei droni, adesso anche marine piccole e estremamente tecnologiche o costose possono, e tra queste possiamo mettere anche tutto sommato la nostra, possono avere un aumento, un incremento di potenza anche ritornando a queste tecnologie che per noi sono considerate antiquate, considerando che noi viviamo in mezzo a degli stretti, lo stretto di Otranto, il canale di Sicilia, noi viviamo nelle strozzature del Mediterraneo, tanto per avere un'idea sono 170 km tra le coste tunisine e quelle della Sicilia, la metà della strada percorsa da questo barchino per corpire a Sebastopoli, per avere un termine di paragone. Sono neanche 100 km il canale d'Otranto, quindi… È molto pericoloso perché apre delle spirali per il futuro, per tanto pericolo anche per delle marine molto superiori, intanto questo è l'affondamento, in realtà sarebbe la Zent East Van, no? Per come l'avevano chiamata e allora insomma è abbastanza interessante vedere come si ritorna più o meno a certi accadimenti ancora oggi, in maniera differente. C'è un vantaggio di chi possiede invece un oceano da superare, ecco perché adesso trasferire questa idea, questo funziona in mari piccoli, tutto sommato abbastanza calmi, con un moto ondoso gestibile. Ora pensare la stessa cosa in pieno atlantico o in pieno pacifico comincia ad essere già un discorso che ha bisogno di un passo ulteriore, però come è vero i porti in tutto il mondo sono messi in posti comodi, in posti non difficili o impossibili o il mare grosso dalla mattina alla sera. Questo per potenze navali globali come possono essere la marina dei Stati Uniti, che ha basi importantissime e ovunque nel mondo, penso che cominciano a pensarci bene, perché questi sono test sul terreno, peggio di forzare una base navale in guerra con un tuo ordigno, quale test devi mai fare, quale esercitazione migliore di queste per dimostrare che funziona. Guarda, voglio farti vedere un altro elemento strano che abbiamo trovato, ovvero che molte delle ditte che riparano navi in quella zona sono di Poroshenko. Ora, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si piglia, no? Perché, guarda caso, una di quelle zone che è stata attaccata nella parte sud, poi lo vedremo con Google Map, praticamente fa parte di queste ditte di Poroshenko, che praticamente si è rifiutato di riregistrarsi come, lui ne ha 12, per dire, di riregistrarsi sotto la legislatura russa, sotto le loro leggi, però si occupa di riparazioni navali in tutta la baia di Sebastopoli. Non vorrei che gli ucraini, capito, hanno voluto colpire Poroshenko per dargli una lezione, no? O qualche cosa, qualche cosa interna. Già che ci sei, insomma, comunque l'articolo è in descrizione, occhio perché ovviamente se non sbaglio era in russo, quindi va autotradotto. L'altro discorso è vedere cosa hanno colpito gli ucraini, se era quello veramente l'attacco principale o se era una distrazione, perché ti ho perso. Io clicco 3.000 cose, quindi poi ogni tanto mi perdo, allora. Mi seri è perso. Eccolo qui. L'altro attacco è avvenuto praticamente in questa baia qui, dove guarda caso Poroshenko ha una delle sue ditte che riparano e qui non c'è nulla, questo è un porticciolo di mare, insomma, non con grandi bersalli. L'altro invece è avvenuto sulla centrale, questa è qui, questa centrale energetica, la Balaklavatskaya-Tess e pare che sia stato colpito uno dei generatori. Quindi gli ucraini o tentano di replicare il fatto che i russi tentano di naggiare per dirle, ma anche solo per lanciare il messaggio, se voi lo fate a noi, noi lo facciamo a voi. E quindi questa probabilmente era la centrale più a raggio, insomma, operativo. È passato molto in sordina anche perché questa notizia qui, se non sbaglio, l'ha data soltanto una, solo un'agenzia russa, c'è qualche video a riguardo, ma niente di vocale. Però è un livello differente, quello che stiamo assistendo da parte russa verso tutta la rete energetica e dei supply ucraini, è proprio una manovra strategica per colpire l'intera rete del gas, dell'energia elettrica, dell'acqua. Quello che andrebbe fatto normalmente, o che secondo la nostra dottrina, andrebbe fatto all'inizio di una campagna. E adesso, stranamente, in questa guerra un po' sovvertita, viene fatta in un momento di transizione tra una parte fortemente cinetica e un inverno che si dovrebbe immaginare di attesa. Questo che invece vediamo, la parte ucraina, sul Sebastopoli è un gesto alla cambronne più che altro, un dire fate quello che volete ma noi non ci chiediamo. È una replica con quello che potevano, però non è sistematica come quella che stanno facendo. Però viene da pensare, quando arriverà il giorno in cui il Presidente Zelensky smetterà di chiedere gli apparati per la difesa contro aerea e comincerà a chiedere, ma ci potete fornire dei droni anche a poco prezzo a noi? Perché di obiettivi ne abbiamo parecchi da colpire di là dal confine. Credo che su questo argomento la leadership ucraina e quella americana avranno da confrontarsi parecchio, perché una volta che parte un affare che viene guidato da un cristianoccio qualsiasi è difficile poter avere la certezza che non vada a schiantarsi in una scuola di Rostov sul Don, per dire una città che non c'entra niente, con tutte le conseguenze. Però credo che questo giorno prima o poi arriverà, perché hai degli elementi di forza. Intanto costa poco, rispetto a tutto quello che gli stiamo dando noi a prezzi esorbitanti, fornirgli questo serve direbbe di dimezzare il budget, solo che è difficilissimo controllarlo. Sì, lo sai, gli analisti in questo periodo, io stesso, siamo tutti sul discorso del quanto efficaci sono questi droni comparato ai costi della difesa e dei danni che causano. Io stamattina ero da Michele Boldrina, era una live open mic, venivano anche gli spettatori, c'era un ragazzo collegato da Kiev che diceva che a Kiev ogni giorno 4 ore la luce non c'è e in altre zone di Lucreina la situazione è anche peggiore. Quindi quelli che dicevano questa tattica non sta funzionando, in realtà facevano wishful thinking. In realtà la tecnica russa di andare a danneggiare la rete energetica ucraina, e qui lo sai, noi vogliamo parlare della logistica perché noi dobbiamo renderci conto che riparare una rete energetica, letteralmente i cassoni amministrativi della rete energetica, non sono fatti per essere sostenuti in periodo di guerra, nel senso che le ditte che producono quegli elementi non li producono con dei quantitativi così elevati dove ogni settimana ne devi sostituire uno. Magari se uno va a vedere quanti cassoni o quanti trasformatori vengono sostituiti in un anno, ora la cosa aumenta di dieci volte, non è detto che quelli che producono queste cose… non sono neanche collocati in previsione che qualcuno li bombardi, vengono collocati nel posto più semplice e più facile da collegare, anche dove li metto ha la sua importanza, ma questo vale per l'Ucraina, vale per l'intera Europa. Noi, le nostre infrastrutture, i nostri elettrodotti e quello che sia, sono nei posti dove è facile arrivare. Nessuno di noi pensa di progettare una linea nell'ipotesi che qualcuno te la tiri giù con un missile. Allora ti cerchi dei posti differenti, è un'altra dimostrazione di come questa parte del mondo ha pensato alla guerra come un elemento storico, una cosa che è accaduta, una cosa del passato molto brutta e che non accadrà mai più. Perché si vede che le famose ferrovie che erano state costruite negli anni della guerra fredda per portare al confine orientale, parlo dell'Italia, in previsione di portare tradotte, di portare treni che avrebbero portato logistica, nell'evidenza di un attacco russo. Ecco, oggi nessuno spenderebbe una lira per raddoppiare un binario di una stazioncina sperduta del Friuli in previsione di una guerra, perché costa troppo. E so che quando poi il lupo arriva ti trovi con una cosa che è votata esclusivamente alla pace e non regge quasi niente a un tempo di guerra. Anche i russi hanno problemi in questo senso, non sono più così adatti alla guerra. Anche loro già ora ragionano sul discorso di cambiare la loro produzione, non solo in maniera autarchica, ma proprio in funzione della guerra. Invece riparare anche queste cose qui dell'energia, qui leggo la chat e mi dico ma scusa non possiamo fornirli noi. Certo che possiamo fornirli noi, ma a che ritmo? Perché il ritmo produttivo di queste cose è pensato per il ritmo di pace, cioè magari ti si rompe un cassone ogni cinque anni, non 50 cassoni in un mese, o 50 linee energetiche, 50 trasformatori o cose del genere. Quindi è come se l'industria della logistica europea si deve adattare al sostentamento ucraino in periodo di guerra, che secondo me è esattamente quello su cui puntano i russi, perché i russi sanno che nel corto termine, diciamo un anno, non è possibile improvvisare o aumentare una produzione di elementi anche abbastanza rari. Non è che trasformatori o quelle centrali elettriche vengono cambiate così spesso, soprattutto quando ti trovi a cambiare 20, 30, 40, 50 in un mese e magari non ci sono neanche gli stock per riuscire a farle tutte insieme, con un costo enorme, esorbitante, perché vanno portate, vanno rimesse nello stesso posto, perché non è che puoi improvvisare una nuova rete o una protezione eccetera, con il rischio che un drone che costa 20 mila, neanche 10 mila dollari, lo ributta giù esattamente nello stesso modo. Vale anche per la rete dei trasporti, diciamo i trasporti, l'Ucraina si basa quasi essenzialmente sui trasporti per ferrovia ed è anche comprensibile da questa parte, le ferrovie sono il sogno di ogni artigliere, perché stanno ferme, sono individuabili, non si spostano, hanno dei punti nevralgici visibili da qualsiasi altezza, non c'è bisogno di fare dei danni, è già tutto scritto dove far danno e blocchi un'intera nazione con questo e per trascurare poi il discorso della rete viaria, guardiamo il ponte Antonewski a Kershaw, un ponte che Guai ha creato un'intera guarnigione o il ponte di Kershaw, l'ultima volta che ha un'esplosione così, è vero che l'hanno riparato, che hanno fatto tutto quello che volete, però appena si appoggia la mano su una infrastruttura oggi la si riduce in severe condizioni di poter essere ristabilita e non ci sono duplicazioni, per cui per chi punta all'impoverimento, al blocco, alla difficoltà di vivere, a rendere tutto estremamente costoso per chi decide di supportarlo, è un invito a nozze fare questo tipo di campagna, zero uso di militari sul terreno, bassi costi di esercizio per chi colpisce, enormi costi di riparazione per chi subisce e oltretutto anche un senso di impotenza perché stai lì aspettando che il drone ti prenda o non ti prenda, insomma non è che è una... È anche un discorso di perdita di iniziativa, devi sempre te giocare di rimando che anche dal punto di vista diciamo emotivo e psicologico dover stare sempre allerta rispetto a essere te quello che porta il disastro all'avversario è comunque problematico sia per la popolazione sia per i militari. Fra l'altro abbiamo visto Israele che vuole fornire quantomeno il sistema di preallarme, non sistemi d'arma, su questo si è schierato, ha detto chiaramente che non fornirà sistemi d'arma. Certo non per motivi umanitari, secondo me lo vogliono per acquisire informazioni sui droni iraniani, tra l'altro in questi giorni hanno attaccato delle basi in Siria e negli anni precedenti avevano attaccato molti centri produttivi iraniani che però sono stati spostati sottoterra e quindi sono difficili da colpire, motivo per cui quando si vedono sempre i video dei droni iraniani sono sempre questi enormi tunnel sotterranei, quindi è una cosa abbastanza, ha portato insomma a delle contromisure da parte dell'Iran. Hai detto la parola magica, mentre parlavi del sottoterra mi è venuta in mente la campagna di bombardamento strategico dal 43 al 45 sulla Germania che praticamente ha annichilito tutto quello che era in superficie, con tutto questo la produzione industriale e parliamo di una guerra che aveva dei ratei di consumo impressionanti anche per l'epoca, era raddoppiata, perché? Perché si era pensato di mettere tutta la parte produttiva in siti difficilmente raggiungibili o quasi impossibilità di essere raggiunti, noi abbiamo tutte fabbriche di superficie fatte in precompresso, neanche a dire, neanche in mattoni, le butti giù con veramente pochissimo. Questa è un'altra di quelle cose che potrebbe essere aggiunta alle lezioni apprese di questo tipo di guerra, cioè come reagisce l'infrastruttura di una qualsiasi nazione evoluta a una pressione medio alta protratta, quanto riesce a sopravvivere proprio per la sua struttura, come è fatta? E questo è un problema che penso che nella serie di progettazioni si progetta contro il terremoto, si progetta contro l'inondazione, si progetta alcune strutture, non tutte, però l'idea che qualcuno crei veramente un danno volutamente non credo che rientri nei calcoli ingegneristici o di gradamento o di… Lo rientrava nella Russia degli anni 20 e degli anni 30, perché se ti ricordi la grande strategia russa era quella di fare le fabbriche in modo che potessero essere smontate e rilocate altrove. Ma anche l'Azovstal, di buona memoria di qualche mese fa, che a me sembra stata passata dalla memoria, è stata costruita in quel principio. Metà delle linee produttive erano sottoterra, potevano continuare a produrre, era il sistema sovietico, ma anche il sistema abitativo era fatto in questo modo. Gli scantinati e i garage erano fatti in funzione di protezione da un rischio atomico, da una guerra o da essere trasformati in caposaldi o in case matte in caso di bisogno. Ma qui si comincia a passare… Addirittura gli alberi piantati in città erano pensati in modo tale da poter al limite sostenere alimentarmente la folla, quindi meglio un melo che un cipresso, per dire. Meglio qualcosa che producesse un minimo di frutti rispetto al nulla, solo perché alla Magnolia si preferiva… C'era una logica insomma… C'era una logica perché la guerra terribile che avevano affrontato 20, 30, 40 anni prima era stata così pesante, così densa di lezioni e così forte di fame, che qualsiasi trucco, compreso piantare il prezzemolo sul vaso di fronte, aveva un senso e veniva compreso, e veniva quindi accettato anche il costo e il disagio che c'aveva nel seguire questo tipo di idea. Io adesso vorrei vedere se qualcuno progetta il nuovo grattacielo a Milano con l'idea di facciamoci rifugio antetomico sotto, vorrei vederlo. Guarda, sicuramente gli svizzeri rispondono a domande, dicono se esistono fabbriche sotterranee e c'erano gli svizzeri, per lungo tempo hanno considerato, anzi quasi tutte le loro forze armate, i depositi sono sotterranee. Sì, ma anche i condomini, adesso ci mettono le lavanderie, però c'è il condominio con tutta la sorta d'acqua, con tutta la porta antiradiazione, così ne ho visti. Era pensato così. Tornando al discorso di quello che succede, cioè assodato l'attacco che ha fatto danni molto minori, il contraccolpo è la sospensione dell'accordo sul grano, te che ripercussioni pensi che avrà, anche se poi è notizia delle ultime ore, ora discuteremo che la Turchia sta tentando di riportare i russi a rionorare l'accordo, insomma. È un'ennesima testimonianza che dei russi non ci si può fidare o hanno ragione perché sono stati attaccati? Proviamo a fare un discorso di altro tipo. Che altro avrebbero potuto fare? Potrebbero aver colpito il porto di Odessa, l'hanno già fatto, non c'è la marina ucraina. L'unica cosa che galleggia in questo momento di fronte a loro sono le navi che trasportano il grano e sospendere questa operazione, che ricordo è un'operazione che è stata concordata, a parte che con l'Ucraina, con la Turchia e con l'ONU, è un impegno che la Russia ha preso nei confronti del mondo e può essere, se ben giocata, presentata come un'operazione che avete visto? Se colpite in questo modo non è che ci rimette solo un paese in guerra, ma ci rimettono tutti perché hanno detto, e loro hanno detto questo, guarda caso le uniche navi che sono state affrontate e colpite erano proprio quelle che noi dedicavamo alla scorta dei convogli del grano. Quindi non è che non vogliamo, è che ci avete toccato proprio le navi che non dovevate toccare. Penso che sia una balla terrificante, però è quella che è stata detto dal comando e dalla leadership russa. Sicuramente ritorneranno sui loro passi perché è anche una delle monete con cui la Russia sta pagando la Turchia ed è anche uno dei modi per far entrare soldi in Russia. Quindi non ce ne sono poi tantissimi di modi. Questo commercio del grano, in quel bacino là, andrebbe indagato con un pochino più d'attenzione perché fa dei giri strani a dei prezzi strani e questi soldi o vanno da una parte o vanno ad Ancara o vanno a Mosca, quindi non conviene tutto sommato a tutte e due. Dice che i turchi riusciranno a riportare i russi nell'accordo o rimarrà? Sì, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Ci avrà un prezzo questo, convincere, convincere, non è la controparte, è convincere quasi il proprio socio. A scendere a miti consigli bisogna farlo un po' sbollire, ma poi se ne accorgerà che è interesse della Russia non figurare come un affamatore planetario, quindi dare la colpa che ha usato questa colpa agli ucraini e nel contempo non dover rinunciare a una serie di soldi che secondo il diritto internazionale non dovrebbero arrivare, ma per le triangolazioni di questo grano arrivano comunque a Mosca, che insomma non è che sta navigando. Sì, io volevo segnalare un interessantissimo articolo che ho trovato che racconta praticamente del Financial Times, andatevelo a leggere, racconta come i russi praticamente tramite ditte private, praticamente si fregano il grano, forgiano documenti falsi e se lo rivendono praticamente. Quindi era un affare anche per loro. C'è tutto un giro stranissimo, questo articolo ricostruisce tutto passo passo, di come praticamente queste ditte che non risultano nemmeno in Russia, perché sono ditte accreditate diciamo nelle repubbliche separatiste, insomma in queste zone amministrative nuove, dove praticamente lo Stato russo li crea dei documenti falsi, dove hanno preso il grano, dove sta andando la nave, queste cose qui, e secondo me in un certo senso c'è anche l'aiuto turco di chiudere un occhio, perché questi documenti, insomma se dei giornalisti sono riusciti a scoprire che tutto è abbastanza falso, sicuramente i turchi, visto che devono passare di qui, e poi dal Mar di Azov, poi dal Mar Nero e poi dalla Turchia, i turchi chiudono abbastanza un occhio su questo traffico strano di grano rubato, letteralmente rubato, si parla di milioni di metri cubi di grano, quindi probabilmente milioni di tonnellate, vengono praticamente smuggled, cioè portati via tipo... Sì, contrabbandate tipo bucanieri, con ditte semifinte, con questi documenti forgiati, che non hanno nessun collegamento con l'Ucraina o con gli enti ucraini che si occupano dell'export di grano, e ne sono già passati a centinaia di questi abbastimenti. Guarda caso nello stesso periodo in cui i russi andavano a fare le loro visite in Africa, quindi probabilmente... Io vorrei vedere qual è il capo di governo di un paese del terzo mondo con difficoltà alimentari che rifiuta una nave da 25 mila tonnellate di grano perché non ci sono i bollitondi, non si può pensare questo. Quando arriva poi puntuale, tutto sommato, ad un prezzo accettabile. Cosa c'è dietro? Ma questo vale un po' per tutto. Visto che parliamo di navi, dicevano che i gasdotti sono molto più stabili dei matrimoni, durano di più, perché sei sicuro da dove entra il gas, da dove esce. Noi eravamo approvvigionati in tutta l'Europa da gasdotti fissi. Le navi, fin tanto che il prezzo viene concordato durante la navigazione, parlo di nave gasiere, parliamo di occidente, cominciano ad essere parecchie navi che, destinate al porto A, a metà del percorso vanno verso il porto B solamente perché il carico è pagato il doppio. Anche questo contraddice un po' le regole della navigazione, del buon vivere, della parola data, di tutto quello che si. Abbiamo toccato degli equilibri che una volta messi in moto, quelli continuano a muoversi. Ora noi facciamo affidamento su un flusso di energia che viaggia alla voce del migliore offerente e per il momento noi apparteniamo al migliore offerente a livello planetario, siamo la parte più ricca del mondo, siamo quelli che possono offrire di più. Ma non è detto che magari parte tipo il Giappone o altre nazioni che hanno più difficoltà ad essere rifornite non possono fare un prezzo migliore, ci troveremo in doppia crisi. Questo è un altro di quegli aspetti che quando dice chiudiamo, riapriamo, rigassifichiamo, rimettiamo al liquido, venirebbe cominciare a vedere il problema con la sua complessità anche a medio termine. Forgiano anche i documenti ucraini, tipo questi sono dei marchi, si vede il Cosa, sai quel famoso con il fucilone, quello del 1700 e quindi sono tutti documenti falsi e forgiati. Le ho detto leggetevelo questo articolo perché documenta passo passo come fanno i russi praticamente a fregare il grano ucraino e a rivendere, con la complicità dello Stato russo ovviamente che permette tutto questo e che addirittura fornisce appoggio logistico a queste ditte. Sapete chi c'è dietro a alcuni di questi traffichi? C'è Brigogin. Ma guarda un po'. Chi vuoi che ci sia, no? Altra notizia interessante che, se non sbaglio, la undicesima o la dodicesima brigata di artiglieria che era Kaliningrad è in movimento, è stata imbarcata ed è in movimento verso l'Ucraina, infatti ci sono i polacchi che riprodono le maniche e dicono la chance migliore per prendere Kaliningrad non ci capiterà più perché la stanno sguarnendo in questo periodo. Io la lascerei dov'è anche vuota, anche se ci fosse solo la segretaria telefonica, forse è il caso di non farsi venire mire espansionistiche in questo momento perché ne parlavamo prima tra me e te, bisogna cominciare a riflettere veramente di modificare anche il nostro modo di vedere questa guerra con occhi non puramente nostri, occidentali, ma di vederla come la potrebbe vedere la Russia. Quando dicono non mi dovete toccare una zolla di terra ha un valore differente detta a Mosca o detta in un'altra capitale europea. Finché non riusciamo a capire che le lingue portano con sé significati profondamente differenti, valori differenti e non paragonabili e quindi finché non smetteremo di avere la presunzione che tutto ha un prezzo e che tutto può essere ricondotto a una perdita o un guadagno economico ed essenzialmente solo quello e possiamo introdurre in questo paniere anche altri valori tipo la gloria, l'onore, il senso di protezione, di potenza che per noi fanno quasi sorridere, fanno sorridere noi in questa parte del mondo. Ci sono altre nazioni che fanno meno sorridere. 70 anni fa tu hai fatto vedere il barchino, era perfettamente onorevole che qualcuno a 25 anni si mettesse dentro una barca e si facesse saltare per aria perché era la cosa giusta e onorevole da fare. E quell'uomo lì non si sentiva un deficiente, si sentiva una persona che faceva quello che doveva fare. Ecco queste cose andrebbero ricordate perché non tutto il mondo suona la stessa musica, bisogna essere abituati a sentire noti diverse. Il fatto ci sembra che ci siano degli ucraini che si prestano anche a questa cosa per fare affari, nel senso guidano le navi eccetera, infatti li hanno beccati perché quello che aveva i documenti erano fatti in un modo, i documenti invece fatti dai russi che poi sono stati mandati ai porti turchi erano diversi e quindi non tornavano gli stessi documenti della stessa nave. Ci sono dei casi proprio dove ci sono proprio le autorità turche che dicono the paperwork showing the powells called the birdians which is forged. E' una roba contraffatta e quindi abbastanza palese insomma che c'è tutto questo traffico di navi e di grano che non viene dallo stato ucraino. Quel mare è stato trasformato, se noi andiamo a vedere la carta del Mar Nero vediamo che non c'è solo l'Ucraina e la Russia, ci sono parecchi stati che prima di questa guerra si affacciavano con legittimissimi interessi. Di cosa sta patendo la Romania per esempio, che c'è l'unico affaccio al mare sul Mar Nero non è notizia, però sta navigando in un mare che è un mare di guerra. Quanto costano i nolli assicurativi di una nave per esempio? E chi te la vuole assicurare? E chi te la vuole assicurare dicendo guarda ci sono delle mine che vanno di qua di là, non si sa dove stanno, qualcuno se le perse. Potresti navigare di notte e uno si perde un barchino esplosivo e ti fa secca l'unica nave che trasporta gas a un porto della Romania. Cosa significa una guerra in un mare chiuso? Questo è un altro bel tema, perché ne abbiamo un altro di mare chiuso che ci stiamo a mollo noi dentro per esempio, a dimensioni quattro volte più grandi, però anche molti più attori. Questi sono temi non solo geopolitici, ma sono temi militari da sviluppare. Cosa significa il controllo del mare in uno stato, in un mare chiuso dove solamente due contendenti sono in guerra e il resto è in pace e ha tutta la volontà di campare tranquillamente e di far arrivare merce non belliche a casa sua secondo canali regolari. Chi li paga questi danni, per dire? Ha un'economia anche già, per esempio quella rumena, non è proprio floridissima. Sì, guarda, voglio parlare anche di altre notizie. Intanto il fatto che il Telegram in Russia sia stato chiuso o quantomeno limitato, cioè è passato dal limitato a bloccato, quindi evidentemente questo è un decreto che è stato passato due giorni fa. Hanno paura addirittura dei loro stessi Telegram dove la gente comunque parla, cioè si cerca di censurare un po' le notizie che girano evidentemente. Si vede che a questo punto la propaganda russa non riesce nemmeno a controllare le sue stesse fonti di informazione, se hanno paura addirittura dei social, no? O a controimmettere, perché è anche vero che il social ti permette anche di immettere tu la tua di propaganda e la tua, cioè forse si accorgono di avere meno forza persuasiva o di intrusione. O traperano troppe informazioni, cioè la gente riesce… O traperano troppe informazioni, però anche qui c'è il problema, il problema non è mai dell'informazione, è di processare l'informazione, perché Telegram e altri social sono dentro, ci sono delle informazioni militari preziosissime, però vale a trovare, vale a trovare, devi avere una dimensione di analisti capaci H24 di pescare in mezzo ai 56.000 selfie che vuoi mandare alla ragazza, quel selfie che fa invece vedere una cosa che ha una valenza militare utile, non ti manca il tempo. Sì, un po' come… non so se hai visto l'articolo di Bellingcat che ha beccato praticamente tramite i social, Facebook eccetera, hanno identificato tutto il team che sceglieva, l'abbiamo fatto vedere l'altro giorno, tutto il team che decide i bersagli in Ucraina, cioè quanto uno può essere subito se è un militare e si fa queste foto, quindi l'importanza… I nostri carabinieri, la nostra polizia ne hanno messi dentro a decine, gli ultimi sono i fratelli bianchi, per esempio, quelli che hanno massacrato di botte quel ragazzo qui vicino a Roma, ti fai il selfie mentre lo fai o ti vanti mentre lo fai perché la vanità comincia ad essere un peccato mortale per alcuni, però che bisogna fare. Si assomiglia però a un po' in scala ridotta e differente a quello che è accaduto in America prima dell'11 settembre, un flusso di informazioni esorbitante alla capacità di elaborazione, che è anche un sistema di non avere nessuna informazione, perché o hai un canale che è dedicato esclusivamente a delle informazioni affidabili, e bisogna tutto vedere chi lo fa, oppure se proprio peschi l'informazione nel mare della ingenuità, ecco, guardando il ragazzo che si fa la foto e dietro c'è l'unico sistema missilistico di ultima generazione con il cartello stradale a quale altezza si trova e non se ne rende conto, abbiamo strumenti per poter processare questo tipo di, questa quantità di informazioni per una durata così lunga, questo è un altro tema da sviluppare, troppi temi da sviluppare. Guarda, ce ne saranno tantissimi, guarda, allora, questa è un'altra notizia, praticamente un altro decreto russo è stato offerto ai prigionieri russi, ho parlato anche di quelli malati di HIV, mi hanno detto, di poter servire nell'esercito e avere il perdono, e quindi questa è una notizia che gira, ho fatto una notizia data da un sito russo, questo è legna.ru, you will not return to the zone of Russian prisoners were offered to be sent to the combat zone, cosa ti dà l'esercito in cambio? Che se fai sei mesi poi praticamente hai il perdono, quindi anche se sei insomma uno stupratore o… Anche queste cose vecchie, la serenissima Repubblica di Venezia equipaggiava le sue galee in questo modo, o con una riduzione di pena o con i buona voglia, dici vabbè ti do un po' di soldi, ti sconto dei piccoli reati e tu remi da uomo libero sulle galee della serenissima, non è che tutto sommato non è un'idea molto, molto, molto nuova. Se ci ricordiamo per tornare al cinema, vi ricordate quella sporca dozzina? Come sono state reclutate? Erano reclutate esattamente con questo sistema. Sì, infatti qui diceva, Russian prisoners may get the opportunity to take part in hostilities and have even earned a pardon. Questa è praticamente una cosa fatta dal Concilio federale, secondo gli autori queste misure elimineranno il gap, cioè lo spazio fra la legislatura e permettere a quelli che sono stati convitti di fare ammenda rispetto alla società, proteggendo gli interessi del loro paese. L'avevamo già visto, insomma c'era perigoso in cui andava a reclutare la gente letteralmente nelle galere offrendo. Facciamo un po' di analisi anche della situazione, diciamo, strategica e tattica. Intanto queste sono le foto dell'aeroporto di Ciorno-Baivka, che sono quelle vicino a Kherson, era quello vicino a Kherson, che è completamente svuotato, non c'è più nulla. Quindi, come abbiamo visto, i russi stanno cominciando, insomma, a rimuovere l'equipaggiamento pesante, o forse non è più sostenibile, perché troppo sulla linea del fronte... Ma gli gli tiravano missili tre volte al giorno? Cioè, come fai a me? Sì, infatti, non era messa bene, diciamo, come base, era troppo esposta. E quindi, probabilmente, Kherson non ne avrà per molto. Intanto vediamo, questi sono avanzamenti delle truppe ucraine, soprattutto con i nostri vecchi, cosa sono, M-113, no? Sono gli M-113, sì. Esatto, nella... Sono sbagliato che questa era nella zona di Kherson. Questo, invece, è interessante, è un drone russo che va a colpire un'artiglieria M777, quindi, quando i russi tentano di fare qualcosa, lo fanno sempre con i droni, raramente con le truppe. Questo perché è interessante? Perché questo... Ma ci dice qualcos'altro, perché se io riesco a colpire una batteria, cioè, in artiglieria si viene definito, almeno il pezzo, è un obiettivo puntiforme, e soprattutto si muove, perché quello può essere spostato. Comincia a essere... Bisogna dire con che cosa l'hanno colpito, perché fino adesso è passata la vulgata che funzionano, sì, ma contro obiettivi abbastanza grandi e infrastrutturali. Se adesso comincia a colpire con i droni anche cose che stanno lì e dopo cinque minuti potrebbero spostarsi, perché questo è il sistema di... Io sparo e mi sposto. Quindi comincia a essere... Altra cosa, il comandante Lapin è stato rimosso, ok? E qui volevo farvi vedere alcune cose particolari, perché fa abbastanza ridere. Uno è che usa le penne delle Avengers, la produzione degli Avengers, per la cosa americana. L'altra, non so, i ciocchi di legno, cioè non hanno neanche i metri, cioè sta prendendo le misure con dei ciocchi di legno. Non hanno neanche una squadra e un righello. E l'altra cosa buffa che si nota è che sulla spalla c'ha il simbolo dell'Unione Sovietica, il CCCP. Questo rientra un pochino nella... Chi è stato a contatto con i soldati si rende conto che è bello essere uniformi, ma si vuole anche essere diversi. Per cui, magari questo signore qua ha avuto il papà o il nonno iperdecorato a Stalingrado e vuole che si sappia che per chi tifa, diciamo così. Sì, sì, una tradizione legna. Se sono gli soldi... Io da Fanti, i ciocchi di legno, non li vedo mica male. Ti arrangi. Ci metti i piedi sopra, rimangono sempre ciocchi di legno. Se sai quanto sono lunghi, va bene come metro. Ti arrangi, insomma, con quello... Mi ricordo di aver usato i pacchetti di sigarette, io, perché sono standard in tutto il mondo. Una volta che l'hai misurati, un pacchetto di sigarette lo trovi sempre. Il metro è un po' più difficile. Se fai la domanda chi ha un righello non si gira nessuno. Se dici chi ha un pacchetto di Malboro, se ne hai... E aggiungi non ne voglio, mi serve solo il pacchetto, ne arrivano. E con quello ti parli di misure. Parliamo di... Cioè, non di calcoli di estrema precisione, ma più o meno si riesce a misurare. Cioè, l'inventiva del Fante è veramente... Non scarsa, eh. Allora, questa è la situazione al 30 ottobre, quindi di oggi, per quanto riguarda la zona di Kherson. Noi sappiamo che il ponte che i russi hanno costruito, parallelo, quasi sotto, antistante, diciamo, il ponte Antonovsky è stato colpito da 12 colpi di Heimars e quindi credo che quell'attraversamento lì, insomma, è andato è andato un'altra volta. I russi dicono di aver evacuato circa 70.000 civili, ok, dalla zona di Kherson, quindi si apprestano, insomma, piano piano ad evacuarlo e secondo me nei prossimi due mesi verosimilmente lo perderanno del tutto perché la situazione è abbastanza disperata in quella zona lì. Questa è un'altra notizia interessante che a me ha fatto un po' ridere, non tanto perché fanno vedere ai, questi sono i russi che fanno vedere ai bielorussi i sistemi d'arma occidentali, no? C'è un po' di tutto e la cosa che io notavo ovviamente era lo stato di questi ufficiali bielorussi. diciamo che il più combattivo sta combattendo contro il diabete tipo C, credo, in questo caso e beh, io mi immagino un militare insomma che deve andare a combattere e questi sono i tuoi ufficiali. A parte che non mi sembrano molto convinti, cioè li vedo proprio poco poco arzilli, insomma. Fa abbastanza tristezza pensare che i bielorussi o che vogliono mandare insomma questo genere di soldati a combattere. Scusate la battuta ma c'è nel senso guardateli. Cioè non sono alti ufficiali, Questi sono ufficiali combattenti. Sì, sì, no. Cioè questi dovrebbero andare col sacco in spalla e con tutto il resto dei soldati a combattere sui campi. E che la bielorussia non vuole andare col sacco in spalla da nessuna parte. Questo è stato chiaro. E tutto sommato però pur non andando col sacco in spalla diciamo che il suo lo fa. Perché comunque sia solamente per l'attività destrativa, solamente per il fatto che c'è e che ci sono i russi che si addestrano con il confine settentrionale e non puoi far finta di niente. E comunque su un territorio che noi ci ricordiamo sempre ma è quasi una volta e mezzo alla Francia è grande l'Ucraina. con quel poco numero di personale doverne destinare qualcuno a far la guardia dalle parti di Chernobyl di Sumi o di posti del genere già hai fatto già hai fatto un danno. Sembra quasi una guerra di dispetti al momento. Più che una guerra di io faccio questo ti spengo la luce ti taglio ti affondo la nave ti faccio paura a nord. Infatti questo volevo far notare che tot di ore ogni giorno insomma a Kiev la luce è spenta per chi non non ce la fanno e in altre zone tipo Poltave altre addirittura mezza giornata Kharkiv anche peggio ci sono problemi con l'acqua quindi questa strategia russa va analizzata e va trovata la contromossa. In un certo senso qualche contromossa si sta trovando poi ci arriveremo intanto questo visto che ci sei te insomma questi sono nostri. Questi sono gli M109L bellissimi Raccontaci la tua esperienza con questi No questi sono bellissimi infatti se voi fate caso di questi mezzi abbiamo sempre foto in batteria cioè fermi perché e non abbiamo mai filmati perché vedere un filmato di una batteria di M109L in movimento sul terreno appena appena collinare è è un'esperienza questi pesano tanto già aver cambiato la bocca da fuoco tra l'M109G che era quella canna corta quella del Vietnam con questo che è il 155-37 se non sbaglio quindi la canna dell'FH70 l'ha appesantito pareggio il motore è sempre quello non è non sembrerebbe un veicolo corazzato in realtà è corazzato dalla stessa caratteristica delle corazze dell'M113 sono leghe d'alluminio queste sono fatte per parare schegge non per parare colpi sembra un car armato ma un car armato è cosa tutta diversa queste classe 20 insomma un po' di daca daca una 12-7 lo buchi sicuramente e considerando che dentro però questo qua c'è anche le munizioni c'è le granate da 45 kg una più le cariche è una bomboniera insomma ecco sì ecco beccare una abbiamo visto l'effetto quando arriva un missile o un drone su una postazione di artiglieria colpisce l'arma ma colpisce anche una quantità di esplosivo a terra o nei dintorni che l'affanteria non ha per esempio non ha così questi sono delle santa barbare che camminano quindi nella tua esperienza questi come c'è un po' di collina non riesco ad andare meno male che l'Ucraina è molto pianura e considerate anche guardate quanto sono non sono ampi i cingoli su terreno solido vai vai tranquillamente con questo sul terreno appena appena fangoso la dimensione dell'appoggio cioè qui diventa una cosa quasi noiosa la pressione specifica del mezzo per centimetro quadrato aumenta insomma vai sotto affondi affondi solo che per tirarlo fuori non ti basta il camion ci vuole un mezzo che te lo faccia tirare su sono anche mezzi che hanno bisogno e qui è un'altra parentesi nel cui parliamo che hanno una hanno una grossa bisogno di manutenzione non solo questi una giornata di tiro di questi mezzi significa poi avere una giornata di lavoro e duro per ricontrollare gli organi elastici vedere i recuperatori gli anelli di tenura tra dell'otturatore tutte parolacce che stanno di cose che stanno messe lì dentro e loro non hanno forse non abbiamo almeno noi non abbiamo noi di ricambio per questi sì di questo sì di questi pezzi di ricambio quanti ne vogliamo quelli sì sono stati dismessi tanto però c'è qualcuno che è capace a montarli voi perché poi c'è l'effetto Ikea cioè c'è tutto messo dentro la scatola poi guardi il buco A la lettera e la vite B1 e non riesci a metterle automaticamente come vanno messe cioè io mi ricordo quando è questa esperienza comune di chi ha fatto questo mestiere la prima domanda che facevi ma al campo che ci portiamo come meccanico e se non era la parola giusta la vedevi le espressioni e allora se portiamo Tizia anziché caio la metà dei mezzi non riusciamo a mettere la per strada perché nella logistica questa qua mantenimento si chiama così la logistica di mantenimento l'esperienza la capacità la martellata giusta nel posto giusto al momento giusto è ingegneristicamente non valutabile però è di un'efficacia assoluta un buon maresciallo è strategico non è neanche tattico guarda questa è un'altra notizia interessante pare che girano dei volantini di reclutamento in Afghanistan o comunque i russi hanno offerto ai combattenti afghani di insomma di entrare in questa guerra in cambio di soldi eccetera beh mi sembra una mossa abbastanza disperata insomma tentare di recuperare anche questo genere di combattenti questo invece è interessante quasi te l'avevo fatto vedere questo praticamente è un un mucchio di tir che portano praticamente i famosi bunchierini che probabilmente serviranno per la linea che sta montando la la Wagner quella famosa linea che stanno costruendo difensiva cercano di apprestare non so che valore difensivo possono avere questi bunchierini precostruiti ovviamente se vengono colpiti da degli Imer secondo me vengono spazzati via se non altro però non ci piove e non devi scavare tu cioè dentro puoi attrezzarla per l'inverno ti puoi mettere una branda è quasi trasformabile in una casetta cosa che è un po' difficile fare un buco in un terreno ghiacciato e dire rimanici tutto l'inverno è una cosa diversa qui mi pare che ricordavi tu stesso il famoso motto di Patton nessuna cosa costruita dall'uomo non è aggirabile e ce ne sono esempi senza andare a scomodare immagino è successo più di una volta quindi si fai una linea difensiva per rimarcare il fatto che quel terreno è tuo e te lo vuoi tenere e che comunque ti costerà un pochettino andartelo a riprendere sul valore impeditivo reale a lungo termine poi c'è da discutere questo è un altro esempio di logistica nel senso mezzi che erano in riparazione in Germania e in Polonia che vengono riportati sul campo che è una bella noia un bella granna per gli ucraini soprattutto perché hanno mezzi di tantissime nazioni quindi la catena logistica si complica sempre di più questi sono Bayraktar invece che sono stati comprati dai polacchi quindi insomma i tuoi che stanno facendo affari d'oro questa è una manifestazione contro le sanzioni alla Russia a Praga e c'è anche una manifestazione pro-Ucraina quindi c'è una parte e c'è l'altra quindi abbastanza insomma divisivo ecco e proprio perché a Praga proprio perché a Praga che insomma sappiamo tutti che hanno avuto da discutere con i russi qualche anno fa eh direi mettere in piazza tanta gente così vuol dire che che si è arrivato a superare l'effetto ideologico ma ti stanno colpendo sul sul quotidiano sulla tua vita quotidiana e ti fai la domanda sì va bene c'è la guerra ma io che centro fate qualcosa ma io questa sera devo mettere qualcosa a cena che è un po' l'obiettivo strategico che si sta ponendo la Russia nei confronti tutto l'Occidente io continuo a prevere voi continuate a pagare intanto che qualcuno non comincia a dire sì fate quello che volete ma poi io alla fine devo mettere qualcosa in tavola questo è l'ennesimo scambio di prigionieri invece che sta avvenendo fra russi e ucraini ma abbastanza immaginati eh li vedo abbastanza non troppo nutriti ecco però continuano ad avvenire insomma questi scambi quindi quantomeno un po' di umanità da entrambi lati cioè intanto benvenuto a Luca buonasera 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 ciao Paolo scusate l'intrusione ma vi stavo ascoltando molto interesse c'è giorni anche su quello che succede notizia di adesso no? cioè il discorso del del Brasile no? ma appare che ci sia un diciamo colpo di Stato per un impedimento diciamo delle elezioni dato che sembra che il favorito tra virgolette sia l'ex presidente Lula e fondamentalmente i poliziotti al servizio di Bolsonaro stiano un po' impedendo eh impedendo tutto questo ecco qua grazie Mirko eh di più insomma si cerca proprio di impedire l'accesso quasi al voto però insomma è notizia di ora quindi come tu ben sai Mirko magari prima va un po' digerita sì questa è arrivata venti minuti prima di fare la live praticamente mi hanno detto che sta succedendo qualcosa in Brasile pare che ci sono già i poliziotti militari si mettono a bloccare le strade per impedire ai votanti di arrivare praticamente eccolo qui il video i votanti di Lula di andare a votare quindi anche lì insomma come fai a sapere capisco più o meno che per blocchi sociali o per posti puoi immaginare che siano votanti di Lula però insomma c'è anche per zone non lo so come fanno comunque c'è questa cosa che gira parecchio e riportano che già ci sono stati dei problemi anche tra alcuni poliziotti che già insomma stanno subendo diciamo un po' di maretta questo è un caso Brasilian Report esatto highway police boss subpenning for alleged voter suppression quindi qualcosa si smuove ma è abbastanza ovvio cioè se i militari si muovono e Bolsonaro è uno estremamente di destra mi sembra abbastanza ovvio chi è che va a fare queste cose l'esercito e la polizia che storicamente sono sempre di destra è una brutta notizia però perché questi paesi hanno sempre il rischio di scivolare verso un passato anni 70 che poi causa al di là della parte politica o dell'ingiustizia di abbandonare la democrazia porta poi decenni successivi di povertà di arretratezza di perdere il giro della storia cioè per questi ecco per l'America Latina è sempre è sempre penoso vedere vedere guardare in questa direzione guarda a casa sembra che la maggior parte dei blocchi sono le aree rurali che sono quelle che supportano di più la lula rispetto a quelle cittadine quindi anche questa cosa qui purtroppo sono notizie che arrivano adesso io vedo praticamente live Marco scusami ma c'è Marco Bussi dice appena trovato materiale molto interessante sul funzionamento dettagliato di Starlink vieni dentro vieni dentro vieni dentro e ne discutiamo allora si li passo il link ora così se se ne vuole discutere perché comunque è un elemento essenziale perché la rete energetica vedi grazie Marco anche che ci ha ricordato questa cosa l'elemento energetico creerà anche problemi per il sistema di informazione degli ucraini perché se non hai internet se non hai le stazioncine che funzionano perché non c'è energia beh viene meno anche tutta la rete informativa quindi non è un non hai nemmeno dei mezzi capito alternativi per fare questo genere di cose quindi diventa tutto molto complicato tanto altre piccole notizie finché Bussi entra c'è una piccola notizia di missili nordcoreani che sono stati sparati di recente sono finiti più o meno nel mare del Giappone o comunque nel mare della Corea del Sud fra Corea del Sud e Corea del Nord giusto due ne hanno sparati sempre perché è un periodo bellissimo quindi è l'ideale proprio capito mettersi a fare queste cose in in questo periodo sono finiti nel mare quindi come al solito io ci scherzo sempre dico questi vanno a caccia di tonni con i missili perché finiscono sempre in mare poi i missili c'è un lancio compulsivo sì hanno il missili compulsivo l'altro era una carrellata di T-62 russi abbandonati praticamente ovunque cioè gli ucraini stanno per questo esempio ed era siccome si parlava della logistica ecco guarda questo come è messo questo sai cosa è successo questo ha sparato ok e praticamente si è rotto il cannone quindi doveva essere ma è rotturato è rotturato no 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 gli ha fatto proprio il tulipano eccolo là si è fatto il tulipano sai quando questa la dice lunga su sull'acciaio però cioè questo è un un tipo di di danno che insomma siccome tipo di danno si scaldano si scaldano si raffreddano si scaldano si raffreddano a un certo punto quando la canna non ce la fa più praticamente fa si apre così si è ancora questo avremmo buttato anche noi ecco non è che lo ripari cambiandogli la canna cattiva manutenzione no e qualcuno perché poi sai ci sono i maliziosi ah vedi sei antirusso no questo è uno questi due no no questi sono queste tre perché io poi dici no non riesco a vedere le camicie scusami ma prova ad andare anche nella foto precedente a me sembra quasi che l'acciaio ti ha proprio consumato all'interno parecchio come dice magari sono stati tenuti all'aperto per lungo termine ma ho ti dato all'interno non so non so Paolo sei tu l'esperto questi sono abbandonati tutti così non so se sono abbandonati per mancanza di benzina perché sono scappati o perché hanno avuto guasti meccanici allora un carro un carro almeno nei carristi italiani era dice come il cavallo prima di andare a dormire lo devi strigliare lavare rifornire pulire verificare ingrassare tutti i verbi di inare inire che uno può immaginare dopodiché dopo tre ore che hai parcheggiato sotto il tuo mezzo puoi andare a mangiare perché se non fai così la mattina dopo non parti perché è un mezzo delicato sembra una cosa una bestia così grande tutto acciaio tutto è è una cosa delicatissima perché si basa in punti particolari che hanno grossi attriti grosse sollecitazioni che se non le controlli e se non le cambi quando vanno cambiate tu quel mezzo non lo usi a vederlo da fuori sembra praticamente intatto che non gli è successo a niente mi pare che ci fosse un nel leopard del vecchio un relay che se non sbaglio fosse il relay 37 che quando andava in tilt ti bloccava il carro completamente era un pezzettino di una cosina così per far funzionare il carro lo dovevi togliere però dovevi sapere che era quello che comandava tutte le sicurezze del carro mi spiego a vederlo dice questa cosa che pesa 5 grammi ferma il carro sì sì lo fa figuriamoci comunque ne stanno trovando requisendo distruggendo eccetera in quantità industriale di questi T62 qualcuno è recuperabile perché qualcuno sono le versioni T62M sai quelle con le spaziate ci muoiono delle officine grandi solo perché per scavallare le torrette per spostare i motori perciò devi fare proprio lavori di grandi c'è grandi officine pesanti non è una delle cose che puoi fare all'officina di casa ecco questa no buonasera buonasera ciao mi sentiva? malino trova un po' hai ascoltato un attimo posso fare un po' il volume sentite? sì vai allora Marco è un esperto di telecomunicazioni quindi Marco il generale Paolo Capitini il generale Paolo Capitini Marco è un esperto di telecomunicazioni con cui parliamo spesso di intercettazioni telefoniche come è avvenuto ad esempio la presa dei vari generali russi all'inizio e in questo periodo stiamo parlando di Starlink che fra l'altro non so se hai sentito ultimamente c'è la voce che si dice Elon Musk dovrebbe portare Starlink anche in Russia con delle antennine diciamo nascoste così per portare le informazioni anche lì e i russi si sono lamentati dicendo che Starlink non dovrebbe essere un attore che supporta gli ucraini ma dovrebbe o lo fornisce a tutti o non lo fornisce a nessuno quindi ci sono un po' di lamentere anche in questo senso democratico 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 fatemi cercare avevo tirato giù qualche tra l'altro io sono un ex carrista sono un parlando di Leopard sono stato sottotenente ho fatto la scuola Lecce quindi un qualcosina di Leopard visto che tra l'altro ero ero l'unico ingegnere avevano ingegneria all'epoca facevo verifiche rettifiche erano i da fuoco gli scafi facevo tutto praticamente stavo praticamente a contatto con i marescialli tutte le F4F le F5F era il mio pane quotidiano avevo messo su su Excel tutto finiamo nel 94 quindi un po' di anni fa quando ero uno dei pochi portatili che giravano per la Babini a Bellinzago Novarese ma stai al primo o al centunesimo? all'epoca si chiama al trentunesimo al trentunesimo carri al trentunesimo io stavo al ventottesimo la Babini a Oslavia a Oslavia piccolissimo questo è il nome scusate la rimpatriata poi il capoteulada candela massazza mi fate tutti quindi quando parliamo di Leopard vi ricordo le batterie sulla parte posteriore del dove c'è il cestello di torretta diciamo che erano sempre quelle che si si sfaracellano 400 ampere tutte le volte che andavi vedevi le schicchere se non facciano attenzione molto spesso bisogna lavorare al buio eh bei tempi è un mezzo è un mezzo delicato a vederlo non sembra ma ma è un mezzo ma sono tutti mezzi delicati i mezzi corazzati molto delicati sì anche le verifiche rettifiche poi i vari i terapii 2 il B171 diciamo tutti gli apparati di puntamento a Capitola facevamo anche i tiri notturni quindi tenere tra l'altro tenere allineato un plotone Marco non divagare dacciolo Starlink se no lui si mette a parlare di Leopard 1 per due ore sto cercando il perché avevo tirato giù qualche slide un po' di tempo fa per parlarvene e poi forse questo nella seconda parte ho messo qualcosetta una puntata che ho fatto con Glorious Glowbusters per il per far capire per far capire esatto quali la seconda parte era praticamente questa vediamo se riesco a condividervi innanzitutto vi faccio grosso modo una panoramica sul perché il allora share screen window eccola qua vedete vedete il powerpoint eccolo sì ecco giusto per far capire che cos'è una un array di antenne questa è una piccola animazione che fa vedere con un semplice ritardo praticamente questo oggetto fatemi abbassare un po' il volume che è qui e praticamente questo fa vedere come introducendo un lieve ritardo uno sfasamento tra le antenne si riesce a ottenere il l'indirizzamento del facile è un array di antenne piana pure come vedete riesce a massimizzare il lobo di radiazione con un angolo teta che è sostanzialmente non ortogonale alla direzione di propagazione semplicemente introducendo questo sfasamento questo ritardo tra la prima la seconda la seconda la terza eccetera eccetera questo è il principio cui che sta alla base di tutti i sistemi di scansione di fase quindi parliamo dei radar spy one degli Aegis fino a le antenne di Starlink ecco perché cito questo oggetto perché Starlink sostanzialmente si basa su satelliti che si trovano in orbita bassa qui vedete un'animazione che fa vedere la differente distanza Marco potabile e conseguentemente sì più potabile possibile sì questo è una cosa stupidissima è un'animazione che fa vedere il ritardo la latenza che c'è tra i satelliti Starlink vedete qui e i satelliti in orbita geostazionaria e anche i rapporti in scala tra le distanze questo fa capire ovviamente che i satelliti di Starlink non possono stare in orbita geostazionaria perché a quell'altezza sei troppo vicino legge di gravitazione di Newton se sei molto vicino ovviamente a raggio più basso e quindi devi agire molto più velocemente perché devi contrastare la trazione terrestre quindi devi avere una velocità tangente maggiore una velocità angolare se vogliamo usare la velocità angolare nella stessa formula convertendo la velocità lineare tangente significa sostanzialmente che i satelliti in orbita bassa non possono stare stiamo parlando di 500 km di altezza circa lower orbit non possono stare in orbita geostazionaria quindi si muovono continuamente questo cosa significa che le antenne di Starlink per riuscire a lavorare devono inseguire i satelliti siccome l'antenna non è motorizzata ma è fissa o meglio è motorizzata ma per una ragione che vedremo tra un attimo come fa l'antenna inseguire più di un satellite perché l'antenna è in contatto con più di un satellite sostanzialmente utilizza questo principio che abbiamo visto prima divide i fasci in tanti sottofasci ciascuno dei quali insegue il satellite nella mano che passa introducendo questo ritardo ok ora per coprire tutta la superficie terrestre Starlink utilizza il meccanismo di Uber che è una suddivisione del globo terrestre non il taxi no 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 io qui l'avevo prezzato no effettivamente questo è un meccanismo usato da Google e c'è un motore di mappe che divide la Terra in esagoni perché in esagoni perché tra tutte le possibili suddivisioni è quella che minimizza il numero di poligoni che circondano quello in cui siete presenti se lo dividete in quadrati sono 3 6 7 8 12 in triangoli e soltanto 6 se sono esagoni questo però è una ragione complicata da diciamo da spiegare sta di fatto che questo è il sistema in cui viene suddivisa qui vediamo tra l'altro un pezzo di Ucraina e come vedete questa è la risoluzione la risoluzione 5 è quella in cui Starlink suddivide le aree di competenza dei singoli satelliti ok ora come funzionano i satelliti di Starlink ognuna di queste aree praticamente è di competenza del satellite la banda a salire viene gestita in banda KU la banda KU è stanzialmente 14 20 gigahertz mentre il backhaul mi pare sia sulla 38 40 gigahertz più o meno e come vedete siccome i satelliti si muovono in orbite parallele su dei piani diversi piani ovviamente ogni satellite è responsabile della sua area poi i satelliti sono collegati tra di loro con quelli che si chiama inter-satellite links che sono link laser che servono per coprire un satellite che non ha il collegamento diretto con il gateway a terra c'è un certo numero di gateway a terra che Starlink ovviamente ha appaltato per esempio c'è uno molto grande in Turchia e ovviamente quando il satellite non riesce a trasmettere con la sua antenna al gateway a terra utilizza il satellite precedente o successivo esistono anche comunicazioni tra differenti piani in modo che ovviamente se quella zona non è coperta correttamente dai satelliti si utilizzano quelli vicini sostanzialmente del piano successivo o precedente questa è una foto di come funzionano le annele di come è fatta la parte di antere del satellite rivolto verso terra e queste sono le stazioni di gateway a terra sono 8 più 1 di ecco scusa quanto sono dipendenti questo dal sistema energetico i satelliti sono autonome o sono collegate alla rete energetica ucraina perché lo scopo dei russi di lanaggiare la rete ucraina è anche quello di limitare starling sono in altre zone quindi non sono non sono queste in turchia in particolare ma non non ci siano punti di landing point di gateway in ucraina ok anche perché ovviamente e le piccole antenne starling quelle piccoline che ogni tanto i russi hanno beccato ci hanno trasformato in tavolini da caffè quella deve essere alimentata con power over ethernet finalmente alimenti con la porta ethernet che usi per collegare l'antenna basta qualunque dispositivo e buonanotte e come vedete i satelliti si parlano ogni piano di satelliti si parlano tra di loro parlano con i gateway a terra e poi si possono parlare tra gateway differenti ovviamente i satelliti possono siccome servono i loro esagoni di competenza se devono anche trasmettere il traffico catturato da un altro esagono chiaramente cedono parte della banda perché ovviamente una parte della loro banda nella comunicazione con il gateway di competenza ovviamente viene dedicata al relay del traffico che arriva da altri satelliti e questo sostanzialmente è il meccanismo che serve per funzionare vedete in plane inter satellite link e cross plane nel caso siano due piani di scorrimento dell'orbita differenti questo è più o meno come funziona l'oggetto ora questa è una foto pubblicata da Stalin stessa se è andato sul sito di Stalin trovate questa fotografia che è sostanzialmente il link però c'è un però c'è un ulteriore limitazione e la ragione per cui l'antenna è motorizzata è perché quando Starlink ha richiesto le autorizzazioni siccome si trattava di satelliti in low-road orbit una delle cose che devono assolutamente evitare è di interferire con i satelliti geostazionari che hanno la prelazione quindi quando c'è il rischio di trasmettere verso una zona dove c'è un satellite in orbita geostazionaria il link non funziona quindi i satelliti non possono coprire tutte le aree quando stanno transitando ci sono delle aree tali per cui se la congiungente il punto a terra e il satellite il prolungamento della congiungente passa verso un satellite geostazionario che come ricordiamo è molto più lontano quel link è vietato e per fare questo come vedete qui c'è un sistema che consente di capire qual è l'angolo unusable dei satelliti tant'è che in una simulazione è fatta su uno di questi siti che spiegano come funzionare che è anche un simulatore fa vedere che c'è una zona degli Stati Uniti qui vedete la Florida il Golfo del Messico c'è una zona degli Stati Uniti sostanzialmente in cui in prospettiva diciamo da terra rispetto al punto centrale non si può trasmettere quindi quella zona di esagono sostanzialmente non può essere coperta da un satellite che si trova al centro di questo cerchio ok quindi ci sono delle zone delle zone buie anche in Ucraina praticamente sarebbe interessante capire quali non è una zona buia non è una zona buia è un angolo in cui il satellite in quella posizione non può essere ricevuto dalle stazioni a terra però utilizza satellite primo satellite dopo chiaramente con questo discorso che l'antenno rimane fissa cercando di minimizzare l'angolo non utilizzabile ovviamente ha un angolo molto ampio e utilizza altri satelliti che passano in questa zona che invece non è una zona cieca una zona non utilizzabile ecco e siccome ce n'è più di uno per questo ne devono mandare in orbita parecchi il sistema a canzione di fase ovviamente aggancia più satelliti e cerca di bilanciare il carico tra più satelliti tant'è che se voi andate qui in questa simulazione si vede per esempio i vari satelliti nelle loro posizioni quali tipi di traffico quali esagoni possono seguire questo è capacity planning che serve sostanzialmente per simulare la capacità di copertura qui c'è un ulteriore zoom ovviamente che fa vedere una situazione di potenziale sovrapposizione con più satelliti nello stesso angolo ora però questo qui per esempio è una doppia copertura di un esagono da parte di due satelliti ora qual è il problema che il satellite che si trova proprio sopra ha una zona di responsabilità che è esattamente ortogonale sotto di sé provide the death of clock ammesso ovviamente che non si trovi nell'angolo cieco quindi ha la zona immediatamente sotto e poi ha degli esagoni attorno ovviamente nella zona immediatamente sottostante avete il massimo della concentrazione questo esempio fa vedere la luce concentrata su un esagono sotto è un esempio fatto su un muro per far capire che la potenza irradiata è massima se invece cominciate a irradiare sugli esagoni adiacenti ovviamente c'è una maggiore dispersione ha lo stesso effetto per cui anche la luce ha un'intensità minore perché risulta a parità di superficie irradiata di potenza radiante si spalma su una superficie maggiore lo stesso effetto si ha sostanzialmente quando il satellite ha una certa competenza su un certo numero di esagoni quello immediatamente sottostante ha un certo tipo di potenza gli altri laterali ovviamente vengono irradiati con una potenza minore questo fa sì che con la sensitività delle antenne del satellite questa cosa non sia un problema ma se noi guardiamo che cosa succede facciamo finta che io spari del jamming in una determinata zona ok e cosa succede che io ho un rapporto signorumore necessario per riuscire a gemmare dell'oggetto che si abbassa perché in quella zona il segnale ricevuto dal satellite è più basso questo significa che in alcune zone potrebbe esserci un effetto si potrebbe mettere in a congemi se poi andiamo a vedere le esigenze sostanzialmente le varie attenuazioni le varie azioni vediamo che ci sono zone in cui il segnale praticamente si dimezza ogni 3db il segnale si dimezza quindi vedete che basta un 25% di potenza nella zona 12db per riuscire a chiudere il rapporto signorumore e per rendere cieco sostanzialmente l'apparato ora premetto 3 cose primo che tutto questo è fonte di una speculazione non c'è nessuna prova secondo che sparare della radiazione verso un satellite se abbiamo un problema di questa cosa a terra c'è altrettanto verso il cielo perché bisogna centrare esattamente il satellite il cielo è molto grande e devi avere la capacità di inseguire il satellite che non è propriamente una cosa simpatica se non hai le tecnologie ricordiamo quella puntata che abbiamo fatto sulle elettroniche un rato alla scansione di fase bisogna di elettroniche estremamente veloci ed estremamente sofisticate se voi guardate su internet c'è un paio di tear down delle antenne di Starlink è un pezzo è un capolavoro di ingegneria quell'oggetto quindi non è esattamente uno scherzo produrre un oggetto del genere e riuscire a gemmare i satelliti a inseguire con l'accuratezza necessaria è altrettanto poco facile ciò nonostante potrebbe non essere impossibile che siano riusciti a gemmare in alcune zone proprio usando queste zone di adiacenza dei settori di competenza dei satelliti ok? sfruttando il fatto che se io incrivo ovviamente siccome il patlos cioè l'attenuazione della radiazione decresce e col quadrato della distanza possono gemmare i satelliti più vicini quando arrivano più o meno nei settori contigui alle zone occupate dall'esercito russo se sono troppo lontani non hanno rapporto con l'amore quindi è un'arma a doppio taglio è vero che nei settori vicini riesci a gemmarli ma è altrettanto vero che più ti allontani è vero che il satellite ha meno potenza del segnale ma è altrettanto vero che anche a te serve più potenza del segnale per riuscire a oscurare il rapporto segnal-rumore di sensitività dell'antenna del satellite però potrebbe essere una delle spiegazioni del perché nelle zone di confine sono stati questi problemi Marco scusa perché in generale non è che noi poi possiamo andare avanti certo certo sì 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 no io assolutamente anzi mi spiace essermi dilungato su questo il resto sono sostanzialmente fotografie di come funzionano i vari oggetti ok allora siccome volevo ah spero ecco volevo aggiungere proprio il discorso della situazione sul campo per vedere un pochino come siamo messi anche perché non sta succedendo tantissimo questa è la zona di Cremina praticamente dove gli ucraini sono riusciti ad arrivare quasi sono nei suoi borghi che è un punto fondamentale perché se riuscissero a prendere questo borgo poi riuscirebbero a prendere questa strozzatura in questo momento ci sono le truppe Cremina e le truppe russe che sono schiacciate in questa zona che come si può vedere ho messo apposta i layer quelli dove si vede praticamente nella visuale tattica e strategica gli elementi le vie d'acqua perché se la guardi così sembra tutta pianura se metti invece i bacini idrici noti che ha una strozzatura enorme questa zona praticamente le zone dove puoi passare sono molto ridotte se uno guarda la scala sotto c'è praticamente un passaggio di 5 km qui di 3 km qui quindi in questo momento poi le strade sono abbastanza evidenti sono quelle in arancione ho messo anche la rete stradale si vede come questa zona non è molto coperta da strade tutto passa per Cremina ed è il momento in cui gli ucraini si sono praticamente bloccati e ora stanno tentando di prendere Cremina praticamente da due lati stanno spingendo anche se le temperature si stanno abbassando è una zona anche un po' paludosa lo si vede per esempio qui non è proprio una zona adatta per controffensive e cose del genere quindi in questo momento i russi sono riusciti più o meno a stabilizzare il fronte in questa zona se ci riuscissero si fermerebbe tutto credo fino alla primavera se invece gli ucraini riescono a sfondare e arrivare diciamo a dilagare nella pianura retrostante l'altra zona dove i russi si possono assestare è praticamente questa zona di laghi e fiumi sulla destra però questo significherebbe sopravvanzare praticamente Severodonetsk alle spalle al che significa che i russi lì sono costretti a fare una a retrocedere di nuovo e probabilmente gli ucraini faranno una conversione verso il basso non so se il generale è d'accordo sulla situazione tattica mancano però un sacco di dati per poter fare un apprezzamento più o meno realistico perché non abbiamo l'efficienza operativa non abbiamo almeno io non ce l'ho non abbiamo l'organica non abbiamo la situazione logistica come piano in generale ha senso c'è da dire che come intento dei russi non tenere lì significa retrocedere di 30 km e lasciare una città per quale hanno combattuto molto e lasciarla in inverno cioè questi posti sono anche da considerare come accantonamenti dove posti dove poter lasciare della truppa in previsione di qualcosa di futuro ora se è vero che Kerson potrebbe essere persa nelle prossime settimane è anche vero che non si può immaginare che venga perso tutto come piano generale la conversione verso sud va bene però è anche vero che tenere sotto controllo degli stratti di 5, 6, 10 km si riesce a fare con una certa indifensiva da parte russa anche perché scusa dietro non c'è nulla è una zona completamente rurale non ci sono città dove dici ci sverniamo ci passiamo l'inverno diventa problematica anche per i russi se vengono scalzati lì vuol dire che gli ucraini si passano all'inverno a cremina un po' di case ci sono loro se la passano in campagna tra le paludie ecco è convincente quando devi lasciare il tuo sac però all'asciutto metterlo al bagnato vedi di difenderlo e oltretutto adesso con tutto quello che possiamo immaginarsi di debolezza da parte russa c'è una situazione diciamo locale è ancora gestibile non è un'offensiva su grandissima scala è un attacco vedi l'altro problema da cremina passa l'unica linea ferroviaria questa fondamentale per la logistica russa se gli ucraini riescono a tagliare questa linea ferroviaria praticamente devono fare prendere quell'altra che fa il giro da sud ma questa te la scordi e questo è fondamentale guarda dove passa tutta la logistica l'ho messo apposta questi layer questo è il layer ferroviario e stradale perché poi si capisce perché un villaggetto di 20.000 ha così tanta importanza perché di lì passa la ferrovia la ferrovia che porta praticamente tutti i rifornimenti come si può vedere in tutta la zona del Lugansk io suggerisco a chi ci assiste a chi ci sta guardando in questi giorni di fare un esercizio analogo sulla rete ferroviaria italiana e scopre che ci sono Bologna lo sanno tutti Milano lo sanno tutti Roma lo sanno tutti però magari Orte Falconara Marittima paesi di questo tipo dove sono gli innesti tra per esempio l'Adriatica con la rete per Roma sono paesi fondamentali e conoscere questo iniziare a guardare il terreno in termini anche di potenzialità di capacità di intervenire sulla manovra logistica non su quella tattica solamente per cui magari dal punto di vista di tattico uno potrebbe perdere tranquillamente questo terreno però metterebbe fuori combattimento la logistica non di quel settore ma di mezzo fronte questo è uno degli elementi che può indurre un comandante guarda questo è classico questo è classico perché Bakhmut è importante guardate dove tutte le strade convergono tutte le ferrovie tutte per Bakhmut esatto è per quello che è importante il terreno nell'esercito si dice che il terreno comanda e non è un modo di dire perché quando riesce a vincere il terreno comanda il logista che in tutti i briefing che si fanno fa parlare il tattico per 40 minuti dopodiché ti dice questo non si può fare questo non si può fare questo non mancano le munizioni qui ci vogliono il doppio di camion praticamente devi ripianificare ecco quindi una vera pianificazione parte proprio dall'inverso dal quello che abbiamo in dispensa che cosa abbiamo con quello che ci abbiamo che cosa si può fare al meglio questo è un buon pianificatore infatti cosa stanno facendo gli ucraini cosa stanno facendo gli ucraini in questa fase stanno attaccando questa linea ferroviaria che passa per Popashna che passa per tutto il Luhansk e il Donetsk proprio per rendere possibile la logistica russa e quindi non riescono ad alimentare infatti la piccola controffensiva che gli ucraini hanno fatto nella zona di Bakhmut proprio quando i russi erano quasi a ridosso qui ci sono i battaglioni della Wagner questi sono tre battaglioni della Wagner erano arrivati alla fabbrica di cemento sono stati rispediti indietro ora se voi notate gli ucraini usano la linea ferroviaria quella di Bakhmut che porta i rifornimenti direttamente a Bakhmut mentre i russi devono usare questa che comunque si deve fare 30-40 km dal fronte se in più gliela vai a danneggiare e gliela vai a danneggiare anche a monte avranno anche altri problemi quindi tutta la linea logistica russa che è sempre stata basata storicamente su quella ferroviaria ha questa vulnerabilità qui quando tu hai due linee ferroviarie ce n'è una che passa praticamente per questa zona e una che passa leggermente più indietro sono due se tu gliele danneggi praticamente danneggi tutta la linea logistica dei russi motivo per cui i russi in questo periodo sono così assestati su Lisi Chance su Severo Donetsk su Kreminna perché se perdono queste linee non perdono solo un punto dove farsi l'inverno perdono tutta la catena logistica al che diventa un dramma perché le cose più vicine non è sostituibile d'altra parte io ritorno un pochino alla parte dottrinare di questa cosa e soprattutto per chi non è del mestiere perché si immagina sempre che le battaglie si conducano con le forze in realtà si dice si gravita con le forze oppure con il fuoco oppure con l'ostacolo o anche tutti insieme cosa vuol dire che io certi obiettivi li posso raggiungere con le truppe con i carri armati con l'assalto di fanteria oppure li posso raggiungere con il fuoco cioè con l'artiglieria con i missili con quello che c'è oppure con l'ostacolo campi minati demolizioni butto giù il ponte butto giù la ferrovia il problema è non guardare il mezzo ma guardare lo scopo che ti prefigi e lo scopo che ti si prefigge palesemente l'esercito russo in questo settore è teniamo in piedi le linee logistiche teniamo in piedi le linee logistiche e graviteranno cioè metteranno quello che hanno per garantirsi questo compito di tenersi la linea logistica lo possono fare col fuoco lo possono fare con i droni lo possono fare con i carri armati lo possono fare con tutto insieme però è questo cioè vedere si schierano anche più in profondità non sono più settati a velo anche perché il fronte restringendosi crea un aumento di truppe anche in profondità per esempio in questo periodo noi abbiamo geolocalizzato le unità e i russi sono schierati più o meno su tre livelli in questa struttura in profondità come avrebbero dovuto fare dall'inizio cioè un paese come l'Ucraina lo invadi con tre milioni di uomini con 160.000 ecco e un paese come l'Ucraina una cosa ci sta dicendo a prescindere di come vada vada quello che stanno dimostrando i russi che accetto le sanzioni dichiaro la mobilitazione mi prendo tutto il brutto della cosa ma io non me ne vado e questo è un modo importante di leggere questa guerra non è non è un tipo di guerra che può essere paragonata per esempio a quella contro l'Afghanistan contro il Vietnam da parte degli americani una guerra in cui puoi decidere a un certo momento io adesso me ne vado va bene così questa da parte russa sembra essere una guerra vitale nel senso di non poter permettere che l'Ucraina diventi qualcosa di diverso da uno Stato che gli assicuri una certa distanza dal loro nemico da quello che loro percepiscono come nemico sia vero o non sia vero e finché non raggiungono questo loro non raggiungono lo scopo strategico di questa guerra che non è il Donbass e avere la certezza che non ci sia un soldato americano in Ucraina un soldato nato in Ucraina questo è giusto è sbagliato non lo so però è un obiettivo strategico di lungo termine è la loro linea strategica su cui pianificano da 200 anni i russi non vogliono avere gente pericolosa alle porte di casa che loro reputano pericolosa io credo il pericolo più grosso che hanno è culturale nel senso se il modello se il modello democratico funzionava in Ucraina che è un paese molto molto vicino quasi russi allora quel modello poi poteva essere esportato altrove o comunque per contaminazione avrebbe contaminato già paesi come la Bielorussia che sono lì tentennanti cioè se non c'è Lukashenko loro diventano democratici in tre secondi e quindi pensare di permettere all'Ucraina di fare un percorso democratico non è ancora una democrazia non prendiamoci in giro ne devono fare di lavoro ancora in quel senso però già il fatto che nasca il germe della democrazia alle porte della Russia in un paese che storicamente è sempre stato più o meno controllato dai russi in un modo o nell'altro è il pericolo più grosso su lungo termine perché un modello democratico significa la fine degli oligarchi e questo però riguarda il presente adesso stiamo facendo una divulgazione di tipo geopolitico riguarda proprio i giorni di oggi però le nazioni o i paesi hanno le loro linee di condotta e le loro preoccupazioni che non sono magari comprese da altri noi non ci rendiamo l'effetto che produce sulla mentalità italiana per esempio la presenza delle Alpi noi automaticamente pensiamo che c'è un di qua e un di là di qua ci siamo noi di là c'è tutto chiunque altro ora se noi avessimo un'immensa pianura al posto delle Alpi non avremmo mai una sicurezza che quello di là non venga di qua è l'effetto per esempio per non parlare dell'Ucraina delle Fiandre del Belgio della Francia del Nord dell'Olanda che infatti si è andata a vedere la lista di guerre che sono state combattute perché non c'è un posto per dire voi di qua noi di là e loro sono in questa condizione ora a torto ragione e non sono io a decidere se ci hanno torto ragione i russi percepiscono che l'unico modo per avere sicurezza in un'immensa pianura è portare il tuo nemico più lontano possibile da quella pianura se fosse per loro si prenderebbero anche la Polonia cioè finché non arrivano a un grosso fiume che è veramente difficile sì, quello è il loro discorso storico nel senso dalla Germania parte un'enorme pianura che arriva fino agli Urali e quindi per i russi l'imperativo è sempre stato quello di spostare dall'Atlantico diciamo la minaccia verso più ad ovest possibile guarda metto una mappa di Google Map perché si capisce anche come questa ragione non sia solo una ragione culturale ma sia proprio una ragione geografica perché se uno va a vedere le catene montuose i carpazzi così ti rendi conto che questa strettoia nasce proprio davanti all'Ucraina e inevitabilmente porta in Polonia e poi in Germania ora la metto perché così si capisce è proprio plastico questo ragionamento russo di voler ridurre il fronte di contatto con l'Occidente eccola vedete questi sono i carpazzi ok vedete come coprono praticamente quel fianco e arrivano fino all'unica catena montuosa che è praticamente la Polonia che è confinante con quella che era la cecoslovaica praticamente questa catena comincia qui in Romania e finisce più o meno a Dresda quindi la linea più stretta che i russi possono avere di confini ideale era quella proprio sul fronte di Berlino cioè questa linea qui che ora separa praticamente che li faceva dormire tranquilli eh li faceva dormire tranquilli esatto ma adesso passando dalla scala dalla scala grande delle grandi popolazioni a quella individuale ci avete mai pensato chi di noi in camera sua noi dormiamo vicino di solito a una parete nessuno di noi dorme nel centro specifico della stanza perché si sente lontano da qualsiasi cosa gli dia protezione che è una parete e la gente le grandi popolazioni ragionano nello stesso modo dell'individuo non ci vogliono stare in mezzo alla stanza senza sapere che cosa passa dalla porta vogliono appoggiarsi a un muro e finché non si capisce questa linea culturale semplice tutto sommato non si capisce quanto saranno disposti a combattere i russi per non stare al centro della stanza prima regola quando si mette il letto la testa è mai rivolta verso la porta le popolazioni ragionano un po' come l'individuo moltiplicando n volte il sentire di tutti a nessuno potremmo dire che soffrono di agorafobia diciamo così se voi guardate se voi guardate se andate su Inside Russia che narra un po' diciamo uno degli esempi diciamo che non era un po' quello che è il sentimento in questo momento loro sono partiti convinti di avere il miglior esercito del mondo eccetera eccetera adesso c'è un po' di disillusione dal tuo punto di vista molti sono dovuti scappare perché per via della leva obbligatoria eccetera per cui probabilmente hanno anche altre preoccupazioni in questo momento si sta fermando la produzione di quasi tutte le grandi aziende probabilmente il personale sta riducendo tra chi è scappato che era nei ranghi più elevati dell'industria e quindi c'è un'autosfera abbastanza glumia abbastanza cupa sul paese no no che non stiano passando un bel momento siamo sicuramente eccetera la disillusione si sono resi conto che non era un'operazione speciale ma era vera e propria che le cose non vanno affatto bene perché le notizie circolano quindi è vero che diciamo tutti i grandi regimi hanno sempre cercato di tenere la posizione perché però sanno che se perdono in Ucraina dovranno poi essere disposti a combattere in Bielorussia e questo non ce la faranno no sanno che se perdono in Ucraina perdono potere e ovviamente perdono il senso della loro nazione che è peggio di perdere il potere cioè tutto sommato lo puoi anche sostituire Putin ma Putin o chi per lui è espressione di quella nazione sta là perché perché è quello che esprimono non è stato non ci sono classi dirigenti paragadutate da Marte che scippano le leadership in qualche modo il popolo si esprime poi che non lo facciano i nostri facendo un discorso che possiamo rivolgere a noi stessi e noi non possiamo accusare i nostri politici che sono l'espressione di quello che siamo noi oggi un popolo con bassa natalità con poca capacità di impresa con un sacco di piccoli difetti che raggruppati sono quelli che abbiamo nella classe politica i russi hanno Putin perché tutto sommato è simbolico del loro del loro modo di vedere adesso questo non lo trasforma in una brava persona però pensare che tolto Putin i russi diventano un'altra cosa questo mi sembra una cattiva un cattivo pensiero strategico loro l'intera comunità sa che perdere l'Ucraina perderla in senso di mancanza completa di controllo non dico averci proprio soldato lì sopra però perderci il controllo di questo territorio significa che da qui a qualche tempo non so quando dovranno rifare una guerra per fare la stessa cosa in Bielorussia e non riescono non riusciranno certo a combattere due guerre tre guerre in vent'anni questo no io ho visto io ho visto che in realtà una delle cose che sta in questo momento pervadendo molte delle cioè è una è una dei dubbi che hanno molto forti è che cosa succede alle loro spalle perché diceva uno di questi signori diceva i generali cinesi stanno fregando le mani perché ovviamente alle loro spalle hanno visto qual era l'efficacia dell'esercito delle forze armate russe e con quanta difficoltà hanno avuto nel difendere un pezzettino di territorio con un paese che era non so se ventesimo trentesimo e quindi in questo momento dicono sì sì noi siamo impegnati qui ma ah noi ci sentiamo europei tutti tutti quelli che contattano io ho dei conoscenti che avevano delle linee di business in corso da quelle parti dicono tutti che loro sono abituati a trattare gli occidentali non con i cinesi sono proprio diametralmente all'opposto nel modo di pensare è una delle cose che sta li sta molto preoccupando è quello che succede dall'altra parte perché sanno che dall'altra parte hanno due invece che Taiwan potrebbe esserci un'altra direzione di sfogo dei problemi la Siberia è percepita come un territorio asiatico che è in mano a persone che non dovrebbero tenerlo questo però volevo chiedere una cosa a Luca perché in questi giorni stanno succedendo cose anche in giro per il mondo abbastanza strane di cui si parla pochissimo vabbè a parte la notizia di oggi dei casini insomma in in Brasile c'è anche questa notizia qui che è abbastanza strana se Luca ci vuoi dire ma sì proprio due due parole due in Myanmar praticamente circa per le 8 e 40 di sera ci è stato un doppio varo triplo se vogliamo dire attacco da parte di Treri del regime militare del Myanmar sopra praticamente un concerto come dire creato organizzato dai dai ribelli a questo a questo regime ci sono stati un totale di 50 persone morte e una settantina e ottantina di feriti quindi insomma diciamo che il mondo ribolle come stava dicendo giustamente prima Paolo da questo punto di vista Myanmar non è una domanda che è strano perché era un concerto di una fazione che vorrebbe staccarsi dalla Myanmar una fazione molto a nord del paese e letteralmente mentre c'era questo concerto perché c'erano anche membri del cioè non è che quelli che facevano il concerto erano delle pubbliche separatiste c'erano lì dei membri insomma dei separatisti il governo centrale ha deciso di bombardare fregando il segno di tutto e tutti ha ammazzato tutti quelli che c'erano è una cosa insomma che qui proprio non se ne parla è sempre la questione della distanza ormai geografica no? cioè quando si tratta di Ucraina siamo abbastanza vicini e allora se ne parla la Siria qualcosina poi adesso ho qualcosa di dimenticato Yemen quasi nulla e poi quando si va verso il Myanmar ovviamente l'informazione si perde completamente è una cosa normale per il mainstream a proposito di questo invece la domanda era relativa all'Iran al ruolo di Israele e l'Iran nella triangolazione con la situazione russa e del fatto che ci sono state queste rivolte eccetera eccetera sembra che gli iraniani vogliono supporto dai russi su come gestire le rivolte non è che vai proprio dal migliore che sa gestire questo genere di cose ovviamente è uno scambio nel senso noi vediamo i droni voi ci date una mano con i casini che abbiamo in casa è una cosa un po' strana poi l'abbiamo visto i russi chiedono anche a combattenti afghani di arruolarsi avete letto che i plenipotenziari iraniani stanno imbarcando parenti amici e cugini cognati collaterali su aerei al botto mi pare a botto di 5-6 mila persone non so se al giorno stanno saturando capacità di trasporto di alcuni velivoli e stanno chiedendo visti inglesi canadesi eccetera funzionari funzionari iraniani la notizia che girava su New York Times lo faccio vedere questa è la mappa del Mianmare lo stato quello che si è dichiarato auto indipendente è quello del Kachin cioè quella parte a nord del Mianmare dove diciamo la giunta militare che ha fatto il golpe un po' di tempo fa rimuovendo la 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 presidenta perché ora c'è questo discorso del presidente presidenta fanno la guerra praticamente a questa parte del Mianmare bene io mi sa che tra poco vi devo salutare perché si è fatta si è fatta un'accertura però ne abbiamo aperti tanti ce ne siamo dimenticati anche altri di temi molto carini tipo parliamo di logistica parliamo di logistica di quanto è fondamentale abbiamo visto con il T62 mollati un po' ovunque con i canoni che si aprono a petalo scusa Mirko non so se ne avevi parlato Paolo anche la questione del fatto che comunque l'Ucraina buona parte è tutta pianeggiante comunque ne avevi parlato anche tu Mirko prima con la questione dei confini con i Carpazzi e quant'altro per quanto riguarda appunto quanto a Ovest dovrebbe andare la Russia per star tranquilla da questo punto di vista il fatto che è pianeggiante e quindi anche da un punto di vista logistico l'Ucraina insomma è un topic abbastanza importante da questo punto di vista no Paolo ne parlavamo fuori là sicuramente sì sicuramente sì però ci sono fattori che noi abbiamo stentiamo a comprendere ce ne accorgiamo magari quando andiamo in vacanza magari in Francia dove guidi per 50 minuti un'ora non incontri niente semplicemente perché è una dimensione una densità una struttura urbana che non è la nostra dobbiamo considerare in che mondo ci stiamo muovendo in quelle in quelle in quelle pianure sono così tanto grandi che solamente l'idea di costruire una rete viaria minima e mantenerla mantenerla con quelle temperature con quel tipo di usura che ha sono problemi che abbiamo difficoltà a comprendere e che in qualche modo questa gente risolve da centinaia d'anni o accettando quello che è o cercando di fare il meglio una delle cose che impari è che non potendo avere un flusso di rifornimenti costanti su qualsiasi cosa vuoi rinuncia alle cose semplicemente ti concentri su quello che è essenziale che ti arrivi sperando che ti arrivi l'utile e dimenticandoti di quello che ti dà solamente piacere avere concentrando questo tipo di vita nelle grandi città che tutto sommato possono essere simili a quello che è una grande città europea perché sono appunto strutturalmente simili ma io non so quanto ci mettono a fare un ordine ammettiamo che fosse possibile su Amazon in un paesino sperduto degli Urali ma non penso che te lo riconsegnano in 5 minuti o in mezza giornata neanche lo ordini più la logistica in questo senso è un paese che non ha quasi possibilità di fare grandi trasporti navali è una potenza essenzialmente terrestre guardate gli americani gli americani pensano alla loro proiezione di potenza perché pensano automaticamente che hanno due enormi oceani in loro completo possesso loro sanno che caricano una nave a New York o a San Francisco e la portano ad un'altra parte del mondo quella è già il loro primo passo logistico e così non lo possono pensare devono pensare che qualsiasi cosa deve essere caricata sopra una ruota che sia di ferro o che sia così sia di gomma e cambia proprio il modo di pensarla la logistica cambia anche il modo di progettare i mezzi la durata cioè sono tanti fattori che concorrono alla base logistica di una nazione il fatto che sono pochi sono la metà sono un terzo degli americani su un territorio che è quattro volte tre volte quell'americano questi fattori e io parlo più che altro per l'invito a chi ha la pazienza di seguirci da tanto tempo di cominciare a guardare la cosa anche da un punto di vista pregresso e quello che c'è dietro e dietro ancora al momento al momento diciamo acuto che è la guerra perché la guerra parla della gente che la fa e se non capiamo questo non capiamo come la fa e fino a che punto è disposta a condurla e la valutiamo con quello che facciamo noi oddio non ci funziona al telefonino per due giorni siamo cotti ecco Paolo in tutto questo noi quanto siamo preparati a sostenere l'Ucraina in quella che evidentemente per i russi è una strategia anche forzata stanno trovando delle scamotage abbastanza funzionali come quello dei droni dei missili anche se hanno problemi di produzione dei calibri sappiamo che la produzione media era 27 al mese ora è arrivata a 44 e nelle ultime due settimane il numero di attacchi di droni russi e di missili è calato di nuovo noi quanto siamo in grado di supplire a una guerra di resistenza dove i russi si stanno armando sul lungo termine hanno cominciato a pensare a produrre in maniera autarchica a riconvertire hanno già fatto anche delle leggi proprio speciali per gestire le risorse noi non stiamo considerando minimamente ancora abbiamo visto prima con l'IME cos'era le 100 novelle mandiamo delle cose vecchie che avevamo ma se dobbiamo mandare roba fatta ora non c'è nulla no a parte che non ce l'abbiamo gli unici sono gli americani che hanno la capacità di sostenere tutta questa tutta questa guerra in Ucraina noi ci stiamo dilapidando insomma quello che avevamo degli anni 70 80 90 abbiamo già mandato quasi tutto a livello produttivo non ne abbiamo di roba nuova se l'Italia dovesse andare in guerra adesso le nostre forze di terra quanto durerebbero due giorni di munizionamento quanto abbiamo una settimana di vita ma su un tipo di guerra di questo tipo apro solo una parentesi poi vengo alla risposta su questo tipo di guerra non siamo stati costruiti negli ultimi 20 25 anni per questo tipo di guerra noi e tutto il resto dell'Occidente eravamo in mezzo alle peace support operations eravamo in mezzo alla imposizione della pace alle forze di interposizione pattuglia alla strada porta gli aiuti tiri una cannonata ogni tanto sono queste le operazioni che due generazioni di ufficiali e di reparti hanno condotte abbiamo comprato mezzi per fare questo tipo di operazioni abbiamo comprato i lince abbiamo comprato abbiamo comprato mezzi che servono per combattere per tenere un'operazione a bassa intensità anche magari a lunga durata lontano dal territorio ora questa guerra ci sta dicendo che esistono guerre dove c'è un forte attrito dove c'è bisogno di carri armati c'è bisogno di potenza e di ferro e non ce l'abbiamo né noi ma pochissimo anche il resto però vengo alla domanda iniziale perché invece contrasta un po' con la narrativa del non so se l'hanno fatto per per un calcolo o gli è capitato ma i russi stanno colpendo noi hanno individuato il nostro punto di rottura noi non riusciamo a sostenere una causa su base morale semplicemente perché la nostra morale si rivolge al fatto che dobbiamo stare bene e non dobbiamo perdere soldi noi mettiamo tutto su una linea di economicità ci conviene non ci conviene non siamo proprio in grado di dire rinuncio alla pagnotta in nome della causa perché la pagnotta è la causa quindi colpendo questo colpendo lì e semplicemente basta solo prolungare la guerra per i russi ci colpiscono in una cosa che noi non riusciamo a sostituire con un afflato ideale a voglia che ci raccontiamo la democrazia la libertà tutta questa cosa qua quando questa cosa si trasforma in il pagamento sulla pelle non siamo disposti a Praga le manifestazioni contro le sanzioni non ne frega nulla che è stranissimo perché comunque parliamo di cechi e slovacchi che hanno subito il tallone russa ma che adesso stanno bene l'insurrezione di Praga adesso stanno bene dicono non ce ne frega nulla di quello che succede in Ucraina noi vogliamo il prezzo del gas basso a casa voglio riscaldarmi voglio pagare un mutuo a prezzi umani voglio che la mia paga non sia mangiata dall'inflazione voglio voglio stare tranquillo per dire alla romana voglio stare tranquillo questo è il nostro valore e se questo è il tuo centro di gravità lì vieni colpito e per colpirlo non c'è bisogno di minacciare la bomba sporca di minacciare chissà si tratta solo di far durare questa cosa che che ti impoverisce noi accettiamo tutto ma non accettiamo di essere impoveriti si però la cosa sta succedendo anche dalla parte ma non gliene importa niente o gliene importa meno che a noi allora importa non abbiamo una scala universale di valori e questo noi abbiamo se voi guardate quello che succede nelle grandi città fino ad adesso l'impatto effettivamente sulla popolazione non c'è stato perché perché grosso modo il regime che consuma liquidità circa a botte di 25 miliardi al mese più o meno perché gran parte della Russia è sussidiata l'industria vera e propria parte quella del gas poi l'ha visto Marco scusa il trucchetto che fanno l'hanno messo scusate il termine ma sono le 11 passate l'hanno messo in culo alle zone povere aumentando i prezzi là ma calmerando quelli nelle grandi città dove l'inflazione è a livello di quello del periodo covid sì però questa cosa fino adesso ha retto perché sono riusciti in qualche modo con la banca centrale a tenere in equilibrio il problema è che nel giro di non ricordo i calcoli ma siamo ancora c'è una dozzina di mesi di tempo questa cosa va a finire perché finiscono il cash e a quel punto le cose diventano veramente pesanti ecco perché stanno cercando di aumentare la pressione perché c'è un orizzonte in cui finiscono i 385 billions che avevano oltretutto quelli erano all'equilibrio ma adesso che si sta seccando per quello che hanno paura del price capsule il petrolio parliamo prima del grano ma quello su cui guadagna la Russia quello che guadagna la Russia è il petrolio soprattutto il gas mi pare sia un quinto o poco meno il gas viene usato come strumento ma quello su cui si teme è il petrolio questi sono numeri alla mano diciamo beh ovvio citando caccio ottobre rosso è difficile sapere quando ritirarsi in una gara di resistenza loro contano che la loro resistenza anche per via del fatto che hanno buona parte del paese molto più indietro e quindi più tollerante verso le manchevolezze vada a colpire più noi perché da noi già il discorso del termostato apriti cielo ti metti un golfino però intanto sento per esempio in Italia innanzitutto noi siamo affetti da altri tipi di problemi abbiamo problemi per esempio legati all'inflazione che non è una cosa legata solo e esclusivamente al gas e non è una cosa solo e esclusivamente legata alla guerra in Ucraina ricordo che il prezzo del gas era alle stelle già ben prima ricordo articoli della Reuters di novembre ora è bassissimo dall'altro di fatti è sceso tanto che leggevo corregge io leggevo che gli americani ora hanno problemi perché abbiamo riempito i depositi e praticamente ho sentito che c'è un problema ecologico perché stanno bruciando il gas perché non lo riescono a vendere di fatti c'è un rischio di eccesso di produzione ma c'è tutta un'altra serie di discorsi che vanno fatti è che l'aiuto dell'Ucraina passa verso gli Stati Uniti che coprono l'80-90% quello che è stato mandato quindi noi possiamo in Repubblica cieca possono fare tutte le manifestazioni che vogliono ma tanto quelli continuano a supportarli quindi e su questo penso di questo i russi cerchino di spezzare il fronte ma è abbastanza una potenza imperiale come gli Stati Uniti non può tollerare di avere una serie di potenze chiamiamole ancillari che in qualche modo non eseguono non eseguono tacitamente la linea bravo perché qual è il discorso domino se vanno via c'è il corso lovacchi poi i tedeschi gli italiani l'Ungheria però la Germania o la Francia che dissentono da questo allineati e coperti dietro una politica che giustamente perché essendo un impero gli Stati Uniti si comportano da impero però possono gestire un grado di consenso o di non consenso fino a un certo punto la Germania e la Francia in questo momento hanno bene altri casini perché per esempio le sanzioni che erano state messe in piedi da Trump non sono ancora state tolte e c'è in campo una serie di negoziazioni tra l'Unione Europea e Stati Uniti su aspetti commerciali che cubano quelle dell'alluminio hanno il discorso degli acciai c'è tutto il discorso dell'acciaio e l'umini ma ci sono tanti altri aspetti tra cui anche quelli appunto delle web tax eccetera c'è tanti argomenti io parlo solo poi magari senza abbandonare però un'intera nazione che aveva costruito la sua struttura energetica sul fatto che prendeva gas da una da oggi a domani ha dovuto ripensarle in un altro modo queste sono cose che hanno un impatto di tipo strategico dietro loro ci siamo noi che abbiamo quel poco di sviluppo lo traevamo da una fonte di energia quindi abbiamo perso la Libia abbiamo perso la cosa ci troviamo con le navi gasiera a Piombino e tutto sommato scusa perché c'è questa fissazione qualcuno ha detto che c'è un invaso un invaso ma perché c'è ancora bisogno di dirlo dopo otto mesi io penso di essere stanco perché invaso l'avevo pensato come un posto dove ci fosse l'acqua pensa tu l'ho proprio ridotto dopo otto mesi ancora siamo su questa roba qui ci sono delle leggi non è una discussione morale io mi separo sempre la discussione ci sono delle leggi internazionali che dicono che quando un esercito di un altro paese entra nel territorio di un altro è un invasore punto non c'è discorso di tirarsi o di moralità attenzione quando si fanno queste discussioni non è che si deve pensare di attribuire una categoria morale del giusto o dello sbagliato che questo è un altro discorso sono discorsi di pulsione o di necessità è come processare il leone che si mangia la gazzella non è un bel gesto dal punto di vista la gazzella e forse neanche del leone che si stanca ma è un dato se vuoi capire com'è il meccanismo lo devi conoscere e le nazioni si muovono su principi non su principi morali o su principi di giustizia dovrebbero si muovono su principi di necessità percepita qualche volta reale di potenza e questi sono gli elementi che dobbiamo cominciare a guardare non quelli che ci piacerebbe fossero ma vale per tutti vale per noi vale per qualunque altro le nazioni e le comunità si muovono su criteri non di tipo etico e di tipo morale vorrebbero poi alla fine lo trovano però alla fine alla fine si vengia su questi principi e prima lo capiamo prima li ricerchiamo prima riusciamo a immaginare che cosa succederà in questo caso o nei prossimi o nei prossimi credo è un'opinione personale che non è che scusa io lo dico per noni che c'è quello del commento non è che ce l'ho con lui è che io ancora oggi sotto i miei video c'è gente ancora dice ma non hai detto chi è lì ma ancora dopo 120 live sull'Ucraina devo ancora dichiarare questo non è contro quello che ha scritto questo commento che io ho ancora gente che mi fa questo genere di domande qui con il sé con il male non vorrei vivere in un paese invaso da qualcun altro da qualunque altro esso sia proprio sulla base di questo io ho casa mia con brutti che siamo ma con noi e quindi ho tutta la mia solidarietà con chi cerca di buttare fuori quelli che non dovevano starci però questi che sono venuti l'hanno fatto per qualche motivo non perché non avevano niente da fare e per loro quei motivi giustificano il fatto di infliggersi e di infliggere tutta questa quantità di sofferenza enorme quindi deve essere un motivo valido perché cioè patire tutto quello che stanno patendo anche i russi e gli deve sembrare una cosa che altrimenti non si poteva fare e questo bisogna capirlo vedevo stanno uscendo una serie di polemiche negli Stati Uniti in merito al fatto che gran parte del contributo a questa guerra arriva il contributo economico arriva dagli Stati Uniti e che l'Europa non sta coprendo diciamo la sua difesa sostanzialmente la subappaltata degli Stati Uniti in questo ambito effettivamente la pressione del del creminino sia tramite ovviamente la guerra ibrida sia in varie forme di sabotaggio eccetera quello che vediamo che è successo in questi giorni potrebbe effettivamente spezzare il fronte occidentale siamo sicuri che l'Europa sarebbe così contenta di staccarsi dagli Stati Uniti visto che sono uno dei principali strumenti di questa è una domanda che c'è stato lì c'è una dicotomia cioè da una parte diciamo vogliamo farci gli affari nostri come europei dall'altra parte io lo dico sempre in geopolitica i vuoti non esistono se noi non ci occupiamo degli affari nostri lo farà la potenza che lo può fare in questo caso gli americani però non è neanche il discorso che ho sentito dire in giro degli americani che sarebbero contentissimi che noi ci facciamo l'esercito nostro col cavolo la Nato è a direzione americana e gli fa comodo che noi stiamo sotto comunque una direzione Nato che è comunque americana per legge perché un comandante americano non può mai stare sotto un altro paese quindi il comandante della Nato è sempre americano e fino al 2008 anche il secondo la seconda carica era sempre americana ora è un francese proprio per dire tutta storicamente è sempre stata americana quindi anche a me mi piace stare a capo di una coalizione dove gli altri spendono e poi comando io qui gli europei hanno detto vabbè visto che comandate voi ve ne occupate voi noi abbiamo cominciato ad abbassarci anche sotto le soglie infatti che Trump denunciava e secondo me Trump è distronzato nella sua vita ne ha detto tante ma su quel 2% aveva assolutamente ragione cioè voi fate la vostra parte perché sono troppo a noi non siamo così tanto bassi io vi devo salutare però tra 5 minuti vi devo salutare mi chiedevo mi casso no no avvisavo scusavo comunque noi in PPP spendiamo grosso modo 400 erotti miliardi di dollari all'anno più o meno non è che siamo in prezzi aggiustati all'inflazione perché ovviamente il soldato americano viene pagato ovviamente di più per via del costo della vita siccome c'è tanta tanta Europa dell'est noi se mettiamo assieme per esempio Turchia Grecia i paesi dell'est Europa come spesa complessiva per la difesa equivalente spendiamo comunque sui 400 erotti miliardi cioè l'Europa non ha un bilancio è più o meno metà di quello americano come budget però abbiamo uno strumento diciamo un pochino adesso di compatibile abbiamo le munizioni non parlo di efficacia quello sì sono compatibili ma poi il mio camion è prodotto il tuo camion è fatto in un altro modo cioè siamo fatti in un pochino a modo nostro no no la linea per rispondere gli americani non hanno nessunissimo interesse che noi ci stacchiamo da loro ed è contro la loro linea strategica assoluta e non hanno nessun interesse che ci avvicinassimo in qualsiasi modo alla Russia perché il budget americano sono 801 miliardi in questo momento per dare un'idea sì 797 801 801 3,54% sempre ricordato 800 miliardi circa prima o meno la Cina sui 300 però giustati arrivano quasi ai 400 perché loro hanno una parte in nero hanno una parte in nero sono sui 64 una parte viene compensata con le esportazioni più o meno senza più valore beh direi che di argomenti ne abbiamo sviscerati veramente tanti stasera io ne volevo buttare uno visto che Paolo ha ancora solo 5 minuti il fatto che comunque tanti ora si stanno armando per il discorso dei droni e il primo a farlo sono stati i turchi perché hanno dichiarato che il nuovo aversione del Bayraktar verrà dotata di missili antidrone ok già in joint venture comunque con gli ucraini quindi mossa e contromossa quindi Bayraktar verranno utilizzati anche per fare attività io l'avevo detto finirà drone contro drone all'inizio della guerra il discorso dell'automatizzazione dei mezzi dei droni eccetera sta portando il campo di battaglia lontano dal campo di battaglia ti ho detto io forse un giorno ci scriverò un libro un po' fantascientifico dove mi immagino milioni di cinesi che combattono contro milioni di americani ma sul campo di battaglia non c'è neanche un uomo sono tutti nei capannoni a usare droni mezzi usati però la guerra scusa se ti interrompo questa è un'opinione personale ci ho riflettuto tanto tempo la guerra deve raggiungere un grado di orrore tale che sgomenti le parti e le induca la pace una guerra condotta così a distanza dentro il capannone non fa percepire a chi la combatte il dolore che causa e quindi può durare un'eternità è un buono scenario alla Terminator non so se mi spiego la macchina ti può ammazzare per tutta la vita non ne avrà mai abbastanza un uomo può arrivare invece a raggiungere un livello tale di disgusto di orrore di dolore da dire dove devo firmare firmiamola così basta perché poi funzioniamo così alla fine la misura è colma e si accettano anche paci disonorevoli occupazioni terribili però basta con questo se priviamo la guerra dell'elemento frenante che stranamente è proprio il dolore e la sofferenza che sono anche quelli che la mitigano ci buttiamo in un campo in cui questo non si arriverà mai quella è la parte pericolosa quando la deumanizziamo diventerà una guerra remota e quindi non ci saranno più cioè ci saranno gli orrori perché magari addirittura ci sarà un ritorno un ritorno alla guerra dove i militari se la fanno in remoto ma poi chi la subisce sono i civili due esempi ne abbiamo nella storia l'uso dei gas e l'uso della bomba atomica che nell'istante in cui sono state usate nel periodo in cui sono state usate hanno creato una repulsione tale e tanta nell'umanità che pur avendone facili i gas quanti ne vogliamo la bomba atomica non si usa non sta bene non si fa persino Hitler vietò ai tedeschi i gas perché ne rimase talmente scioccato dopo che era rimasto quasi cieco che anche lui quella cosa lì non la tollerava persino Hitler riteneva inumano cioè rendiamoci conto di una personcina che aveva i suoi problemi da risolvere ecco questo sì ecco io questa cosa lo so che è una cosa brutta da dire però accanto ai buoni propositi ci sono anche i brutti propositi che anche loro portano frutto e ogni tanto bisogna dargli fiducia perché si arriva anche attraverso la misura è colma di certe cose e questo tipo di guerra bandire i mezzi remoti convenzione per bandire l'utilizzo di mezzi remoti no perché non riescono a raggiungere la massa critica non riescono a fare danno così tanto da dire no così si può andare avanti perché si ti è avuto giù un capannone però lo faccio per 50 anni per cui alla fine non te ne accorgi neanche più finché non sei te dentro il capannone e quello è il rischio la bomba atomica fa una strage istantanea di migliaia di persone che non puoi accettare come essere umano di dire ma neanche il tempo di dire addio è veramente la patrona di Santa Barbara la patrona delle morti infatti le bombe nucleari hanno colpito su quello ma se uno va a vedere le morti causate per bombardamento incendiario a Tokyo e a Dresda e in Germania ne hanno fatti molti di più solo che erano dilazionati e quindi non avevano però avevo la speranza se sopravvivevo a quella notte e domani ero vivo non è poco c'è questa linea di umanità che viene mantenuta dobbiamo cominciare a guardare anche la nostra parte brutta e guardarla anche con un pochino di accondiscendenza di dolcezza di capire che c'è non col rigetto col repulsione come se non fosse nostra ultima riflessione secondo te si arriverà a primavera? cioè ormai si rimanda a tutta primavera io sono dell'idea che se si arriva a primavera e i russi falliscono un'eventuale controoffensiva a quel punto lì sono finiti sono finiti anche quelli che sono scesi in campo oggi sono finiti ti dici che saranno disposti a mandarne altri se falliscono a una terza offensiva? io la vedo la vedo buia te la faccio la domanda hai mai visto i russi che mollano qualcosa? si l'Afghanistan era a casa loro ora percepita come casa loro questa è una domanda aperta si si che mollano io li ho visti nella storia poi bisogna vedere quanto ci tengo ma secondo me però te la ribalto a livello storico tutte le rivoluzioni russe sono partite dall'esercito si se va malissimo possono essere un cambio di incosa quello si e loro lo sanno la prima guerra mondiale oggi vivono le grandi città e sono come noi i decabristi quella del 1905 detto questo io mi auguro che la cosa finisca presto e bene senza andare troppo senza avere senza avere desideri di ci vediamo nel girono di ritorno ecco diciamo questo perché di girono di ritorno l'Europa non ha già visto uno tra il 14 e il 39 che ne abbiamo avuto abbastanza una guerra che finisca senza avere questo comunque storicamente è vittima anche di quel periodo lì cioè quei confini lì sono tracciati dalla prima della seconda guerra mondiale cioè queste storie ritorna il casino che esiste ancora oggi in Jugoslavia è di smembramento praticamente dell'impero austriungalico quindi questi problemi come vale per l'Africa per l'Asia tutti questi problemi sono dettati proprio dal dall'ottocento e dal novecento praticamente esatto non riusciamo a uscirne quello che facciamo adesso ce lo rimangeremo tra anni o tra decenni quindi attenzione a quello che facciamo questo o a quello che accettiamo boh via su questo spunto di positività io ringrazio tutti quanti e speriamo di non ritrovarci qui a primavera che siamo ancora a parlarne io lo dico sempre io mi occupo di questa questione ma io preferisco molto di più occuparmi di guerre passate che sono finite e quindi ne posso parlare parleremo di Waterloo parleremo di Waterloo con Chiaparini e altri parleremo di Vietnam e di altre guerre anche col professor Giorgi è meglio occuparsi di guerre passate che non di guerre odierne quindi augurare come facciamo a perdere due battaglie nello stesso posto parlo di custozza sembra sempre lo stesso comune veramente una maledizione altra cosa nostra allora io ringrazio tutti il generale Paolo Capitino Capitini The Many Loads Closet Marco Bussi per gli amici Luca Sabag di Paresia che va a tra poco ci ribecheremo per fare altre live quindi buona serata a tutti e alla prossima su Parabello a voi notte ciao notte buonanotte grazie a tutti